potevamo stupirvi con effetti speciali ma noi siamo senza come state ragazzi bentornati questa attenzione e l'ultima serata dedicata alle nostre interviste creative prima della pausa estiva sentite questa musica evocativa che ho messo questo oggi anzi anche da basso ma è perché perché veramente posso dire che chiudiamo con il voto allora intanto giardino di lori buonasera a te ma ringraziamo anche il nostro 20 22 il nostro nonno 20 22 che si è abbonato per il tredicesimo mese quindi abbiamo superato l'anno incredibile enzo grazie di cuore per supportarci così tanto ciao giorgio insomma ciao un saluto a tutti quelli che si stanno man mano unendo insomma durante questa serata che sono certo sarà molto molto interessante una serata dedicata a tutti i sognatori in anzi tutti tutte le persone che amano guardare e voltare i loro occhi al cielo intanto salutiamo anche valentina che è tornata da new york quante invidia valentina e quindi insomma una serata dedicata appunto non solo a chi ama la fotografia ma secondo me a tutti gli appassionati di fantascienza a tutti gli sognatori a tutte le persone che cercano un punto di vista diverso sul mondo persone che amano scoprire l'insolito per farlo avremo un un amico ormai diventato un amico di percorsi creativi il nostro andrea tomici che tanto ci ha appassionato con la fotografia infrarossi e lui le fotografie quelle semplici semplici proprio non fanno esattamente per lui una persona è un indagatore un indagatore di ciò che gli occhi c'è di qualcosa che occhio nudo non sempre è possibile scorgere allora ecco che il mezzo fotografico ha una valenza maggiore perché ti dà la possibilità di poter vedere diciamo così con occhi diversi svela un mondo nascosto e questo sarà un motivo sicuramente di discussione con andrea come sapete io amo interviste amo un po indagare no mi piace un po scoprire assieme a voi aspetta che devo alzare un po il monitor e amo indagare assieme a voi insomma chi è oltre la tecnica e il fotografo di per sé non un po l'essenza del fotografo quindi strama qua intanto c'è anche il nostro pasquale ciao pasquale batterista instagram cioè batterista in generale ma ha una bellissima pagina instagram dove fa anche delle cover dedicate anche a colori sono dei videogame molto bravo secondo me e c'è jessica o ma qua ma quante persone ci sono oggi quindi 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 ragazzi e come sapete due robe al volo percorsi creativi nasce e come abbo culturali insomma per portare la fotografia ma non solo insomma all'interno di canali di social insomma diciamo un po più nuovi come lo è sicuramente twitch almeno per noi ma chiaramente poi la live che state vedendo ora sarà poi anche su youtube nella giornata di domani ma è molto importante esserci secondo me nella diretta perché avrete la possibilità di fare tutte le domande che vorrete il nostro andrea che come avete visto già la volta scorsa preparatissimo risponde a tutto con dovizia di dettagli ma spiegando le cose in maniera anche molto semplice questo sicuramente gli va a merito perché significa che l'argomento lo conosce bene ricordate diffidate da chi utilizza sempre necessariamente paroloni no perché non sempre sono se si nascondono di riparo non sono come le ricette mediche non si capisce un cazzo non ho mai capito niente sei la febbre provi a leggere la ricetta medica sembra una roba terribile si capisce molto bene invece andrea e ha quella cultura corretta per poter spiegare a tutti anche a me è stato un po quello che combina con le sue con le sue immagini quindi come dicevo ultima serata prima della pausa stiva dedicata interviste creative il canale twitch però sappiate che rimane assolutamente attivo rimane attivo con gli appuntamenti di estate creativi appuntamenti leggeri che servono a me in primis per staccare dal dal lavoro se non ce la faccio perché dovete sapere che quando si ha una propria attività quando non fai qualcosa riguardante l'attività ti senti sempre un po in difetto no ma non ho fatto questo non ho fatto quell'altro oggi invece devo dire la verità che portando un po di leggerezza con un po di game all'interno del canale mi sento meglio io mi sento più rilassato facciamo crescere la community e quindi sicuramente questa sera poi ci saranno persone anche che arrivano non dai mondi fotografici ma dei mondi videoludici insomma è così è così cova quindi ad esempio guardate mars parlo di uno a caso è arrivato mars quindi salve anche a te mars facciamo partire subito la sigletta dopo la sigletta con noi il nostro andrea ed eccoci andrea benvenuto bentornato ciao demis buonasera allora intanto andrea io ti ringrazio di cuore perché anche questa sera le interviste creative portano con sé una tematica poco trattata almeno per quel che riguarda me insomma il mondo che mi circonda tematiche poco trattate che destano curiosità ma che spesso sono e come si può intimoriscono no intimoriscono un po il prossimo perché ma chissà che cavolo ci vuole per fare quella foto chissà che studi matematici bisogna fare per cercare di far strada qua e quindi andrea innanzitutto in base un po l'esperienza che hai poi rincuorare qualcuno che ci sta seguendo può essere una serata data tutti questa qui assolutamente sì allora intanto grazie demis per questa opportunità e per l'opportunità anche di proprio raccontare un po il discorso della fotografia astronomica naturalmente io come penso quasi tutti fin da bambini sogni ad occhi aperti guardando il cielo nelle classiche serate d'estate guardi le stelle ti fai mille domande dove siamo cosa facciamo e ti immagini i mondi più più strani le cose più strane dagli alieni alle alle stelle e chiaramente quindi la passione per l'astronomia in generale ce l'ho veramente fin da bambino poi essendo figlio di un marinaio e quindi che aveva già la conoscenza diciamo almeno base della volta celeste chiaramente nelle classiche stati dove si stava fuori si guardavano le stelle ti raccontava quella la costellazione di la storia e così via e quindi in tutta la parte astronomica mi ha molto mi ha molto preso fin da bambino poi ovviamente bisogna dire la verità fino a poco tempo fa era una cosa veramente un po difficile da fare molto difficile e adesso in effetti come si dice questo qui è il secolo dell'astronomia il secolo scorso è stato nel secolo dell'elettronica e in effetti ci sono molte 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 cose che si si dirigono verso la parte proprio astronomica gli strumenti le camere dedicate così via anche la stessa conoscenza è diventata molto popolare ed è facilmente reperibile e fruibile anche però chiaramente io che ho questa passione amo coinvolgere un po anche chi è solo curioso ma non conosce e ha paura di affrontare questo tema naturalmente per cominciare a fare fotografia astronomica mettiamo subito sfatiamo un mito probabilmente quello che avete già nella borsa fotografica è sufficiente e vai non occorre comprare assolutamente niente mi piace questo ti dico subito ci piace tantissimo questa cosa qua esatto ed è una cosa che permette di partendo c'è per noi fotografi in generale abbiamo un grandangolare abbiamo una macchina fotografica reflex indifferente ma abbiamo già tutto un cavalletto e quindi possiamo già cominciare a fare delle delle foto che possono essere veramente molto molto accattivanti e una delle cose che premetto per me è stato bellissimo quando ho cominciato a fare astronomia e che è una cosa molto rilassante molto rilassante perché ti trovi ovviamente all'aria aperta e di solito sei con amici con buoni amici perché solo chi è veramente interessato poi alla fine ha voglia di accompagnarti e fare la nottata con te e quindi alla fine esco da queste nottate stanco ma felice racconta un piccolo aneddoto sì certo che mi è capitato purtroppo va beh far ridere e i cieli della qui della nostra zona sono abbastanza inquinati dal punto di vista luminoso quindi abbiamo molta luce residua di fondo no e nella nostra vicina slovenia invece ci sono dei posti dove dove il cielo è un po più buio e quindi qualche volta quando hai proprio qualcosa di particolare che vuoi fotografare ci spostiamo un po e andiamo un po oltre confine non tanto anche una trentina di chilometri sufficiente per raggiungere dei cieli decenti naturalmente alle quattro di mattina mentre torno in italia e a pesic al valico c'è il posto di posto di blocco insomma c'è un controllo e mi fermano e mi fa ma dove sta andando a quest'ora della notte ma li faccio veramente sto tornando da una serata astronomica guardi foto fotografie delle stelle questo mi guarda mi fa di notte bene e dice le stelle ci sono anche di giorno però le vediamo mesi di notte più difficile quindi preparatevi un po tutto insomma ecco allora guarda andrea io ti devo subito dire qui ci fanno un assist incredibile perché nel momento in cui abbiamo detto che la fotografia potrebbe essere abbordabile per tutti anzi dove in una qualche maniera qui si è subito scatenato intanto i vari meno male e eccetera ma c'è valentina che ha scritto prenotiamo subito andrea per un'uscita di gruppo assolutamente sì da parte di enzo jessica ha scritto noto l'ada in slovenia insomma e via e quindi noi vi diciamo fin da subito che in realtà in cantiere c'è un qualcosa che forse si potrebbe fare a fine luglio verso fine luglio però abbiamo bisogno da parte vostra che dimostrate un minimo di interesse e per farlo attenzione volete fare una serata dedicata alla fotografia astronomica scrivetemi al demis fotostudio chiocciolina gmail.com così raccogliamo le adesioni e vediamo di organizzare insomma con il nostro paziente andrea che sopporterà magari anche le nostre mille domande e quant'altro quindi se siete interessati mandatemi un'email così sappiamo un attimo facciamo una conta di quante persone insomma sono poi interessate per fare questa questa uscita fotografica senti andrea prima di iniziare a bomba a vedere incominciare vedere le immagini va ultimamente va molto va per la maggiore diciamo il fatto che ci siano anzi te la te la spiego meglio quando sono andato a fare un reportage a meggiugorie dedicata al pellegrinaggio a meggiugorie di per sé in molti dei pellegrini mi hanno chiesto se fotograficamente mi è mai capitato durante i giorni che si è rimasto di di fotografare la madonna comunque un'apparizione o qualcosa di simile no non mi è capitato giuro non mi è capitato mi avreste visto ovviamente che i capelli e la gulliti in questo momento ma quello chiaramente che chiedo a te da appassionato di astronomia eccetera chi è mai capitato di fotografare o vedere un ufo durante le tue apposito dei tu appostamenti o robe simili questi ufo assolutamente no niente ufo assolutamente no e ti ripeto ti rispondo alla domanda nel senso che se vuoi se poi diciamo la domanda poteva estendersi sei credici esistano gli ufo diciamo che ti rispondo semplicemente da da matematico così come ha risposto carl sagan che è un mio grande scrittore che io adoro così come anche margherita che ho avuto la fortuna di conoscere l'universo è così grande che talmente improbabile che siamo soli che quindi il problema fondamentalmente è che le distanze sono talmente grandi ma talmente grandi che chissà se riusciremo mai a entrare in contatto con un'altra civiltà questa è la scusa scusa mi sta leggendo i messaggi che arrivano da madonna e ufo e che è un attimo intanto ciao cal un grande abbraccio e abbiamo anche gli ufo l'incontro per strada insomma aspetta devo avvisare red ronni che no niente neanche questa sera riuscire a vedere degli ufo allora dai a parte gli scherzi a parte gli scherzi e beh io vi devo dire la verità a me piacerebbe un sacco è un attimo sapere che ci sia un contatto perché diciamo questa civiltà manca un po rotto il cazzo spero che ci sia un'altra un po migliore insomma guarda e dico sinceramente in tutta onestà effettivamente numericamente parlando le probabilità che esistano altre civiltà sono veramente molto alte così come molto alta e la distanza che ci separa il satellite c'è l'osservatore che plero che è un satellite in orbita che si occupa solamente della scoperta di esopianeti da quando ha cominciato a lavorare ha scoperto più di un migliaio di pianeti che ruotano attorno a delle stelle relativamente vicine quindi e tra l'altro molti di questi sono nella zona che viene chiamata a riccioli d'oro che è la famosa zona abitabile cioè quella non troppo lontano dalla sua stella né troppo vicino alla propria stella quindi nella zona più o meno come quella della terra ecco ti chiedo una cosa scusami andrea sentiamo però mi piace un po anche queste curiosità così no sei anche appassionato di fantascienza cioè interstellare un film che ti è piaciuto buon lavoro assoluto sono sono d'accordo con te guarda io ne approfitto anche perché per l'occasione ho sverginato questo pad il mostro a chi ovviamente qui siamo in un canale anche di gaming guardate la bellezza che di questo questo padre che attendiamo starfield che esca microsoft sponsorizzaci per cortesia guarda che bel pad che stiamo mostrando insomma quindi anche a giorge è piaciuto anche a eros è piaciuto tantissimo interstellare questo mi fa molto piacere eros mio figlio è una cosa insomma che mi ha proprio un film che ho visto più volte tutte le volte mi commuovo mi emoziona mi appassiona l'altro tra l'altro una curiosità del film interstellar è stata che loro vabbè è stato comunque seguito e curato da fisici e astrofisici quindi è stato fatto veramente con molta cura però hanno per primi rappresentato quello che era la visione di un buco nero che è stata poi presentata fotograficamente parlando qualche anno dopo e non sono andati molto lontano da quella che era lealtà quindi l'accuratezza filmica è stata veramente molto interessante allora direi che possiamo possiamo cominciare insomma ad entrarci un po' nello spazio diciamo così e quindi tu ci hai preparato una serie di immagini non vi dico quante ma ci hai preparato una serie di immagini intanto attenzione perché c'è daffo qui lo vedete sotto un nickname di stereotypes ma ne ha diversi perché gira sotto fa il suo nome spesso daffo che forse anche conosciuto andrea perché era in una live dedicata a flight simulator che abbiamo fatto qui e quindi so che dopo avete cominciato a parlare anche di cose più specifiche di termini che io assolutamente non conosco ma facevo finta di conoscere quindi da bene bene staffo 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 insomma bene bene arrivato anche in questa circostanza quindi andiamo a vedere un attimo fatemi aprire qua tac eccoci qua allora andrea cosa abbiamo davanti questa è allora la grande nebulosa di orione m42 m42 sta per il catalogo messier uno degli astrono astrofisici astronomi dell'epoca che ha creato il suo catalogo osservando i cieli in realtà questa foto è brutta e perché è una delle mie prime foto dedicate a questa a questa nebulosa fatta nel 2012 13 non ricordo quindi più di dieci anni fa perché dici che è brutta cos'è 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 che non va ecco capire allora intanto è uno scatto singolo è uno singolo e questa costellazione c'è questa scusa questa nebulosa ha una parte interna molto luminosa e tutto un alone intorno che invece qui non si vede perché ovviamente per non bruciare il nucleo ho usato un tempo medio e quindi in realtà non la si vede completamente è enorme questa qui questa qui è una nebulosa che si vede che si vede anche a occhio nudo e con un piccolo binocolo anche il binocolo lidl riesce ad apprezzare proprio la forma c'è giorgia che dice se può fare anche lei delle foto brutte così no le puoi fare meglio perché in realtà qui ero veramente impreparato era un po all'aria proprio all'aria in baggio ho detto buttiamoci no e con con veramente un paio di dritte fai delle foto migliori di questa tanto saluto anche scam che in religioso l'urcaggio ciao scam bene ben arrivato facciamo vedere quella dopo andrea quindi a questo punto e sì ecco questa è fatta non è l'ultima questa qui è fatta un po di anni dopo dove invece i dettagli della della nebulosa e si vedono in maniera molto più chiara si vedono le zone ad alta emissione di idrogeno che sono quelle più rosse e si vede proprio tutta la nebulosa quasi completa si vede anche una nebulosa sopra che si chiama la running man nebula dell'uomo che corre perché non si vede completamente ma sembra un omino che corre e i fisici gli astrofisici hanno molta fantasia nei dar i nomi alle costellazioni al agli oggetti ogni tanto effettivamente mi chiedo cosa si fumano perché riuscire a trovare qualcosa che assomiglia a quello che loro hanno detto a volte è molto difficile si vuole molta fantasia comunque questa qui dico così giusto così per una questione di cultura questa qui è una nursery di stelle c'è tutti questi gas che sono in questa nebulosa stanno creando nuove stelle infatti nel centro bibili nel centro dove qua diciamo proprio si vede un po proprio il centro centro ci sono delle stelle che stanno nascendo perché l'accumulo del della polvere di questi gas per gravità cominciano ad accumularsi e a formare nuove stelle allora senti io c'è un una domanda dal nostro amico cal e ci dice in teoria con scatti multipli diverse esposizioni si possono creare immagini più complete grazie anche l'utilizzo di software di editing corretto assolutamente sì e volevo cominciare un po gradualmente questa questa introduzione questi sono solo 22 foto che io ho fatto vedere un po per far vedere come in poco tempo perché in realtà questa foto qua è stata fatta 34 anni dopo la prima foto che avete visto e quindi per dire come in poco tempo si può certo ovviamente bisogna anche un po applicarsi ma in poco tempo si può migliorare veramente tantissimo adesso racconterò un po un po la volta cominciando dalle cose più semplici dalle cose che si possono fare con tutto quello che abbiamo già nella borsa fotografica bene questo ci piace ragazzi ad arrivare un po ai principi e spiegherò anche proprio quello che è stato chiesto da dal nostro amico lo spiegherò in maniera un po più completa ma semplice ok proseguo io con le con le slide ecco questa è in realtà una foto fatta con una qualsiasi macchina fotografica su cavalletto quella che potete vedere lì in mezzo sopra l'albero diciamo quello più a sinistra è proprio la costellazione di orione la si riconosce per le tre stelle in fila che sono che sono la famosa cintura di orione e se guardate sotto tra le due stelle che sono le gambe di orione c'è la spada quella che viene chiamata la spada di orione e proprio nella spada a metà c'è quella nebulosa che abbiamo visto prima vedi che ci sono le tre stelle e poi un po più sotto sotto la prima stella la più a sinistra alnitar e c'è una quella che la chiamata la cintura la la spada di orione e lì c'è c'è quella quella nebulosa che abbiamo visto prima questa foto qua si fa cavalletto 30 secondi di esposizione e basta ma non dovrebbero comparirti un po le scie delle stelle allora e la volta celeste ruota con velocità appunto siderale ma c'è una una regola una tecnica chiamiamola che conosciuta con la regola del 600 che io in realtà la in maniera più conservativa l'ho utilizzata con la regola del 500 che cosa significa significa che in pratica se tu vuoi avere delle stelle ferme cioè puntiformi sì quindi senza scia per capirci senza scia sì per trovare il tempo massimo di esposizione dividi 500 per la focale quello ti viene fuori cioè tu hai un 50 mm il tempo massimo sono 10 secondi se tu fai un esposizione di 10 secondi non hai le stelle strisciate mamma mia mamma mia non ti dico cosa mi è successo a me una volta te lo recantarò un'altra intanto salutiamo n a qb che è arrivato e ci ha raggiunto ma salutiamo anche il nostro luca l'avezzo amico è bravissimo che in questi giorni qui se non era proprio una mostra fotografica quindi insomma dopo magari ritaglieremo un attimo e metteremo un attimo un link dedicato anche la sua mostra io proseguo Andrea mi raccomando se avete domande curiosità eccetera avete qui Andrea chiedete tutto quello che volete sì questo per dire appunto no che in effetti ci sono piccole cose che basta conoscere e queste foto che adesso state vedendo sono foto fatte veramente con un cavalletto è una macchina fotografica ecco o lo scatto remoto per non muovere la macchina quando scatto ma quello è una cosa che più o meno è nella borsa fotografica di quasi tutti o comunque sono accessori veramente super economici questa qui è sempre una sempre se fai caso c'è sempre aurione e lì sotto e sempre sopra l'albero però è presa ancora più grandangolare e come vedi ovviamente lì c'era il tramonto ancora non era ancora completamente tramontato il sole e quindi anche con i 20 30 secondi di esposizione chiaramente hai questo questo glow questa illuminazione che è il sole un'altra cosa da sapere per fare fotografia astronomica e che in realtà ci sono tre tramonti c'è il tramonto civile il tramonto nautico e il tramonto astronomico in realtà corrispondono a angolazioni diverse del sole rispetto al nostro piano su cui siamo in pratica il tramonto il tramonto civile è quando il sole si trova a zero gradi cioè praticamente va sotto al nostro al nostro piano il tramonto il tramonto nautico quando va sei gradi sotto il nostro il nostro piano e poi c'è il tramonto astronomico quando in realtà è oltre i 12 gradi sotto al nostro piano del diciamo del punto in cui al piano tangente in cui ci troviamo solo dopo il tramonto astronomico in realtà possiamo considerare buio prima abbiamo comunque sempre un po di luce del sole guarda andrea io ti dico una cosa che me fa molto piacere intanto ti invito se sei la possibilità di farsi di abbassare un po la videocamera tua perché quando compare il tuo nome ti copre abbastanza volto no ecco ma la cosa che a me fa piacere che ti accennavo già prima è proprio dal mondo del gaming che poi arrivano anche le persone ad esempio e julius qui ci scrive oh che bello dal titolo una cosa stupenda mi piace un botto fotografare il paesaggio e le stelle quindi sei julius sei nella serata giusta quindi speriamo di farti veramente buona buona compagnia io andrea nel frattempo ti leggo un po di messaggi che scriva che figo non la sapevo sta cosa e il nostro stereotypes da foci dice il tramonto nautico lo usiamo noi scimmie su aerei dice si diciamo che il tramonto nautico è quello in cui si cominciano a vedere le stelle più su le stelle nautiche le stelle nautiche sono quelle di che venivano utilizzate per ancora nel nell'antichità per avere i riferimenti e quindi la stella polare tutte le altre stelle che si occupano della della navigazione guarda io ne approfitto perché è proprio il vedi come sono le cose come si incastrano no c'era la domanda di julius che faceva ma c'è insomma un trucco per fotografare la luna col telefono io ci provo sempre ma esce sempre una ciofeca e subito dopo avevamo questa immagine della luna cosa succede allora in realtà sì però il problema sai qual è a fotografare la luna col cellulare che sembra di no ma la luna è molto molto luminosa quindi è un punto chiarissimo in un cielo buio il problema fondamentalmente è proprio la l'esposimetro della fotocamera l'esposimetro della fotocamera fa una valutazione anche se messa in modalità spot parlo di una fotocamera reflex quindi il cellulare assolutamente non ha questo tipo di funzionalità perché di solito usa un sistema più amatrice vede nero e non fa altro che sovresporre e quindi brucia la luna passando in modalità molti cellulari adesso hanno la modalità pro e quindi ti permettono di usare apertura e diaframma che tu li imposti direttamente la luna addirittura la fai parlo con una reflex normale la fai un duecentesimo f11 per dire certo quindi è molto molto luminosa qui in questa foto qua la vediamo questa è una rising moon cioè la luna che sta sorgendo e quindi è ancora debole nel senso la sua luminosità non è così intensa infatti è anche leggermente giallognola e sembra anche più grande quando sorge perché hai dei riferimenti e sembra grande infatti tante volte quando la vedi crescere attraverso gli alberi sembra enorme poi quando va su nel cielo ti sembra più piccola in realtà la luna non cambia dimensione però è che avendo dei riferimenti noi la vediamo più grande questo è uno dei motivi quindi per dare una risposta sì se il cellulare ha delle funzionalità avanzate quindi pro dove riesci a impostare tempo e diaframma è molto probabile che riesci a fare delle foto anche con il cellulare ecco allora Andrea io ti dico quest'altra cosa ad esempio in questa immagine qui è bellissima la composizione allora anche qui la scelta del luogo dove fotografare eccetera quanto magari io magari la risposta già me l'aspetto ma quanto è dovuto al caso quanto è studiato prima c'è ricerca o non c'è ricerca come funziona? diciamo che allora al caso ti direi niente perché se una cosa è facile nella fotografia astronomica è proprio sapere dove le cose sorgeranno e tramonteranno e a che ora perché è preciso è matematica e quello che faccio molte volte quando faccio i miei giretti in moto così per le zone qua vicino cose del genere ovviamente un po' per deformazione professionale mi capita di guardare i posti e dire qui siamo a est qua potrebbe essere interessante fare un moonrise perché allora lì riesco a fare con questo paesaggio riesco a fare con questa composizione e così via e quindi alla fine lo fai abbastanza facilmente è un po' di osservazione senti e per capire un attimo dove sorge dove eccetera ci sono delle app penso anche che ti possono aiutare in quel senso ci sono tantissime app gratuite quasi tutte che ti spiegano a parte applicazioni per la volta celeste il più conosciuto si chiama Stellarium è un prodotto gratuito scaricabile e cross platform gira su Mac su Windows e su Linux e ti permette di vedere la posizione delle stelle in qualunque momento del giorno presente passato e futuro però dopo ci sono anche altre applicazioni che ti permettono per esempio di vedere dove sorge o tramonta il sole o la luna queste in realtà sono foto fatte relativamente qui vicino sono dei laghi artificiali qui in Slovenia vicino a Obrov mi pare di ricordare da cui appunto ho fatto un paio di serate proprio perché mi piaceva l'idea di fare con il riflesso delle stelle sul lago e quindi anche queste foto qua sono fatte semplicemente con una macchina fotografica un cavalletto e uno scatto remoto allora io nel frattempo vi dico che vi ho lasciato in sovrimpressione il QR code per il sito di Andrea Tomicic dove potrete poi anche terminate la live insomma quando avrete piacere andare a vedere i suoi lavori o fargli delle domande insomma trovare un contatto diretto con lui quindi durante la salata farò passare alcuni QR code appunto per darvi tutti i punti di contatto con il canale di percorsi creativi e col nostro ospite Julius attenzione che Julius lo vedo molto attivo sulla serata e dice può sembrare una domanda strano o molto particolare anche in base a varie posizioni hai orari preferiti quando scattare beh allora diciamo che gli orari non li scegliamo noi cioè gli eventi astronomici hanno il loro calendario e quindi se sei in ritardo hai perso l'evento e quindi in realtà non no se decido per esempio di voler fare un moonrise in realtà quello che ho detto prima la luna non si ingrandisce non si rimpicciolisce non è proprio vero perché la luna non ha un'orbita esattamente circolare intorno alla terra ci sono dei momenti in cui è un po' più vicina quindi sembra un po' più grande di un 5% in realtà l'ho misurato proprio facendo un confronto tra le foto ed è un periodo in cui è un po' più lontana fare il moonrise quando la luna è più vicina alla terra ovviamente la fa sembrare ancora più grande e quindi ecco che se sai che questa luna crescente tipicamente in luna nuova in luna piena sarà a quell'ora cerchi di essere nel posto dove ti sei programmato di andare e fai la foto che vuoi fare naturalmente una cosa che purtroppo dipende moltissimo è la questione meteo perché sul meteo non possiamo farci non si può fare nulla non si può fare nulla se è nuvoloso purtroppo no senti non so se hai letto ma Luca ci chiede quindi la via Lattea è uno scatto singolo? sì era uno scatto da 30 secondi uno scatto da 30 secondi con un obiettivo f2.8 quindi lì era tutta apertura e quindi sì era uno scatto singolo queste qua scusa se ti interromo vai 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 queste foto che stanno passando adesso sono sono foto veramente che si possono fare tutti tutti perché sono foto fatte veramente in maniera semplice io volevo dirvi adesso vediamo anche cosa si dice Luca io volevo dirvi che qui trovate il QR code di Telegram il nostro canale Telegram e la maniera migliore innanzitutto per sapere quando andiamo live eccetera ma poi abbiamo anche il nostro Andrea su Telegram sul nostro canale quindi se dopo la serata avete piacere di fargli delle domande delle curiosità postare magari dei vostri scatti no? che avete realizzato sono certo che Andrea avrà piacere insomma di guardarli e darvi anche un vostro darvi un consiglio insomma o comunque un giudizio su quanto avete fatto e Luca parla anche di rumore digitale quanto può essere penalizzante quanto si può evitare com'è che funziona? allora è interessante la domanda perché quasi tutte le reflex già anche quelle meno moderne parlo da reflex da più di dieci anni in questa parte per le lunghe esposizioni anche 30 secondi hanno un'opzione che è quella della cancellazione del rumore in pratica cosa fa la macchina fotografica? fa due scatti uno lo fa mentre stai fotografando quindi con l'otturatore aperto e fa la foto l'altra la fa virtuale cioè dopo che tu hai scattato e hai finito lo scatto la macchina è occupata per altri 30 secondi ad esempio in realtà in quel momento la macchina sta facendo un altro scatto con l'otturatore chiuso e sta facendo la misurazione di quello che è il rumore di fondo ovvero i pixel della macchina fotografica hanno quando sono esposti per molto tempo hanno un'accensione spontanea quello che viene chiamato in gergo tecnico hot pixels cioè i punti caldi come no? questi punti che qualche volta li vediamo anche nella fotografia tradizionale nel senso che qualche volta possono apparire se il sensore è un po' stanco appaiono sicuramente quando fai delle esposizioni più lunghe la macchina fotografica fa questo secondo scatto e va a sottrarre dalla foto principale la parte della fotografia del rumore regalando quindi una fotografia più pulita questo è il motivo per cui le macchine fotografiche hanno questa modalità sulle lunghe esposizioni senti hai provato l'intelligenza artificiale con questi scatti la riduzione del rumore che le siete implementate in lightroom almeno per gli scatti tradizionali funziona una roba fuori di testa funziona benissimo allora in realtà no perché diciamo che con questo tipo di fotografie qua il rumore è comunque contenuto mentre invece per le fotografie che vedremo quelle del cielo profondo si passa tutto su un'altra tecnica e lì in realtà il rumore non c'è più dopo vedremo come senti Giulio ti chiede una domanda molto così sei ami più il tramonto o l'alba sono affascinanti sono affascinanti tutti e due il tramonto è più ha un colore più caldo l'alba ha un colore più rosa devo dire la verità a livello fotografico quindi non astrofotografico adoro tutti e due i i tramonti sono più facili perché siamo svegli e li vediamo più spesso le albe posso assicurare che ho fatto tante volte sessioni astronomiche dove sono stato tutta la notte e ho aspettato l'alba le albe sono altrettanto belle hanno regalano qualcosa di veramente molto molto interessante allora aspetta un attimo io torno un attimo indietro in questa immagine qua perché c'è Valentina che ci chiede e ti chiede ma per esempio in questa foto dell'albero e della luna falce quanto notte era nel senso in che orario ottieni questo risultato allora questa foto qua me la ricordo perché ci sono stati tanti aneddoti divertenti perché ti ripeto quando andiamo fuori a fare queste cose alla fine si ride tantissimo perché si fanno tantissime cazzate ci si diverte si parla di tutto di UFO di tutto e questa qui è stata fatta quello che vedi lassù in alto a sinistra è il nanos e quelle là sono le antenne del nanos questa foto è stata fatta verso le 4 e mezza di mattina ormai albeggiava difatti il fatto che vedi quella zona dorato è proprio perché stava cominciando ad albeggiare eravamo già dopo il tramonto cioè dopo l'alba nautica certo e quindi in realtà appunto c'era sì questa qui era più o meno fatta d'estate fine estate verso agosto verso le 4 4 e mezza di mattina ok io proseguo perché abbiamo tante immagini da vedere quindi dopo magari con calma vi recupererete la registrazione su youtube e vi riguarderete le immagini sono cose spettacolari comunque Andrea questa è questa è un tipo di fotografia facilissima metti metti scatto bulb e lasci e ti diverti e chiacchieri praticamente qui hai il senso proprio della rotazione della volta celeste quella che vedi in mezzo quella stellina che è praticamente quasi ferma sì e la stella polare che è il nostro riferimento su cui vuota la nostra volta celeste ma scusa che tipo di tempo cioè quanti secondi o minuti non lo so quanto io ti dico guardando i gradi ti posso dire che questa foto va a circa dieci minuti perché so più o meno quanto camminano le stelle in gradi all'ora 15 gradi all'ora insomma più o meno quindi anche questo è uno scatto unico sì sì questo è uno scatto unico impressionante questo è uno scatto unico così come anche gli altri strad trail che vedrai questo qui è uno dei primi che ho fatto quindi proprio per per divertirmi per sperimentare perché come avrei capito a me piace molto sperimentare vedere esplorare il mondo della fotografia di qualunque tipo di fotografia e quindi mi piace proprio capire tutte queste queste cose come come si muovono come funziona senti e ribadiamo che queste sono tutte immagini ricordiamo che un qualsiasi foto amatore insomma con minimo di attrezzatura può andare a realizzare senza spendere nulla di più nessun filtro nessun software no assolutamente questa qui è una macchina fotografica un cavalletto e uno scatto remoto ok e questa è questa qui è un'altra un altro strad trail naturalmente proprio cercando di trovare posizioni diversi inquadrature diverse cose del genere il disegno che fa le stelle cambia di fatti vedrai che vedrai che a seconda di dove metti la stella polare hai dei risultati completamente diversi anche anche delle scie completamente diverse questi sono circolari che danno il senso di proprio del movimento e così via questa è fatta con un fisheye quindi un 8 mm e qua si vede tutta la via latea che vediamo noi nella nostra zona allora intanto Andrea hai conquistato Julius perché dice comunque mamma mia mi ero molto voi fotografi astronomici aspettare il momento giusto posizionarsi nella posizione giusta anche col freddo in inverno e fare orari incredibili immagino che ci voglia tanta dedizione e amore immenso per questo mondo sì è vero tutto quello che hai detto è vero e ci vuole un po' di dedizione ci vuole anche passione però devo dire la verità è una fotografia che mi piace tantissimo mi piace tantissimo perché a me piace molto avere un contatto con la natura piace molto avere proprio la possibilità anche di rilassarsi e credimi tutte le volte che io faccio serate astronomiche torno a casa stanco ma veramente pieno di soddisfazione anche per una serata che non è andata a buon fine ma che ha fatto mi ha fatto comunque rilassare divertire e così via allora io approfitto un attimo per dirvi questa cosa qua se questi tipi di serata vi piacciono innanzitutto potete condividere la diretta con i vostri amici sui vostri social prendete il link lo condividete per noi è molto importante vi ricordo che nel caso in cui vi becchiate la pubblicità non è colpa nostra ma è Twitch stessa che li inserisce a forza all'interno dei nostri canali diciamo così se volete cercare di evitare la pubblicità e contemporaneamente anche supportarci vi ricordo che con Prime se avessete abbonati ad Amazon Prime non costa assolutamente potete fare l'abbonamento al nostro canale senza nessun costo altrimenti se invece voi ritenete ritenete che quanto stiamo facendo sia meritevole comunque di un piccolo contributo potete abbonarvi mi sembra il costo di 4 euro qualcosa di simile al nostro canale e se siete giapponetti potete tranquillamente regalarlo a qualche altro utente insomma noi vi ringrazieremo per quanto fatto qui cosa chiede? è un UFO? questo è un UFO? questa è una cometa che è stata qui un paio di anni fa che era visibile anche ad occhio nudo qui è una foto fatta con un 600 mm scatto singolo questo per dire che anche questo tipo di fotografie si possono fare con veramente con quello che abbiamo nella vostra borsa magari non tutti hanno il 600 ma comunque anche con un 400 300 si riesce a fare già delle cose un 200 magari su su APS un moltiplicatore insomma si trovano si trovano una soluzione vedrai che questa connetta qua era molto molto intensa molto visibile e quindi alla fine era una cosa veramente che si vedeva ad occhio nudo ed è stata spettacolare adesso ne aspettiamo una per settembre del prossimo anno intanto salutiamo Retropie che è arrivato ciao Retropie ben arrivato in questa bellissima serata con il nostro amico Andrea attenzione che Giorgia dice quella è una vicella di Superman Demis esatto è un prodotto è un prodotto e qui cosa accade in questa immagine ti prego dimmi questa roba che vedo no questo qui è un telescopio il telescopio di un mio amico che diciamo quando ho iniziato a fare questo tipo di attività ovviamente mi sono mi sono appoggiato a un amico che aveva già attrezzatura in realtà di mio qua vedi solo la Canon che è messa in piggyback sul suo telescopio non so se riesci a vederla è un 200 esatto è un 200 messo in piggyback cioè a cavallo sopra il suo telescopio e questa qui è una serata fatta qui vicino fa ridere perché il 200 sembra una stupidaggine sembra un'unghia non sembra assolutamente nulla senti ma ti chiedo perché invece c'è quella quella carta argento tipo non so no quella carta argento lui la usa perché il telescopio lo usa anche in di giorno e quindi per evitare che si siano con il sole in realtà Giorgia dice comunque foto incredibili davvero beh queste sono foto allora tutte quelle che avete visto fino adesso sono foto che potete fare anche voi quindi sono veramente alla portata di tutti questa foto è una foto molto particolare perché perché è fatta intanto con un grandangolo il 24-105 quindi a 24 tra l'altro e vedete la cometa che abbiamo visto prima lì in alto a metà dello schermo però quelle nubi che vedete sono delle nubi molto molto rare le nubi come tutti i piloti di aeroplani sanno arrivano fino a quasi fino a quasi 4 chilometri 4 mila metri poi dopo non ci sono più queste nubi qua invece sono a 80 chilometri quindi 80 mila metri e sono delle formazioni di ghiaccio che vengono illuminate dal sole e si chiamano nubi nottilucenti è un fenomeno che si vede più verso nord o verso sud ma che proprio quell'estate in cui siamo andati a fotografare la cometa qui eravamo a Morupino alle 3 mezza di mattina che il prete è venuto fuori a vedere cosa stava succedendo e beh succede anche questo d'altra parte sì non è che ogni giorno trovi gente fuori dalla porta alle 3 mezza di mattina questo era è presente dove c'è il santuario quello di Morupino e quindi eravamo lì perché era un punto molto adatto per fotografare questa cometa e poi non eravamo soli alla fine noi siamo arrivati presto ma alla fine quando siamo andati via c'erano circa 20 macchine quindi una polla esatto esatto un concerto un concerto e quindi queste 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 nubi qua sono molto rare e sono anche molto contento di averle fatte in realtà di questa di questa inquadratura ho fatto un timelapse e c'è proprio la la cometa il movimento della della cometa guarda io ti dico sta roba qua allora Julius dice che è un ragazzo particolarmente curioso ma aspetta lo leggo direttamente da qui ti dice no c'è un momento una foto che quando la realizzi pensi incredibile ho fatto questa foto leggendaria e che rispetto alle altre rispetto alle altre questa sarà insomma più 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 importante ecco ti è capitato ci sono momenti particolari in cui è consigliabile per ricercare certi tipi di scatti un po' più unici ma sai che ci sto un attimo riflettendo però in realtà ogni foto che faccio ha un suo mi dà una sua emozione all'inizio e proprio per vabbè forse anche un po' la mia natura cerco sempre di fare qualcosa che mi piaccia sempre di più andare un po' più nel particolare nel dettaglio eccetera eccetera però in realtà per me fotografare è una passione fotografare anche le cose diciamo difficili un po' anche per sfida perché mi piace imparare però in questo caso specifico nel caso dell'astronomia è una cosa che mi piace proprio perché mi piace esplorare vedere immaginare sognare ecco queste qui sono sempre la luna perché la luna comunque è uno degli oggetti più facili da tuttora fare questa qui è un'eclisse parziale di luna in cui appunto si vede l'ombra della terra rotonda così credo che ti fa sorridere no perché l'ombra della terra rotonda da qui si vede che è rotonda questa qui è una quasi ultima fase di un'eclisse totale di luna in cui appunto si vede la parte ancora illuminata dal sole quella fascia più scura non è altro che l'ombra della nostra atmosfera cioè lo spessore della nostra atmosfera si vede nella proiezione sull'eclisse senti qua chiedono anche Julius chiede quanto sei autocritico nel senso quanto riguardando le tue immagini dici no qua potevo fare meglio tantissimo tantissimo difatti qua ho fatto ho preso una selezione delle foto che diciamo che ho fatto in passato mancano gli ultimi tre anni perché in realtà dopo vi spiegherò perché sto raccogliendo fotografie per fare poi dopo delle fotografie un po' più interessanti in realtà ho raccolto queste foto qua per far vedere che nonostante lo stereotipo che la fotografia astronomica è una cosa difficile in realtà questa fotografia è una fotografia facilissima è una foto che veramente può fare chiunque basta avere un po' di un po' di basi un po' di conoscenza base per riuscire a fare queste foto qua la luna questa qui è una foto un po' particolare della luna noi siamo tutti abituati a vederla bianca in realtà la luna non è bianca mi dispiace è bianca perché riflette molto il sole e questo tipo di fotografia si chiama mineral moon luna minerale perché in realtà rappresenta fa vedere come in realtà è la superficie della luna viene fatta questo tipo di fotografia leggermente sotto esponendo e esaltando un po' la parte della la parte di saturazione in realtà solo per per portare così un confronto la luna ha un albedo l'albedo è il termine che si usa per indicare la quantità di luce solare che viene riflessa l'albedo della luna è 7 0,07 quindi riflette solamente il 7% della luce del sole che la colpisce la la terra invece ha 0,36 quindi la terra riflette il 36% della luce solare questo solo per fare un confronto di quanto in realtà è molto più scura la luna rispetto alla terra c'era anche una canzone di Alan Parson che si chiamava albedo 0,39 non so se ve la ricordate parlando anche di musica ecco qui un'altra fase di un'eclisse totale di luna e queste qua si va fuori si fa le chiacchierate si fa uno scatto ogni 5 minuti perché un'eclisse dura comunque la fine tra l'inizio e la fine può durare anche 2 ore quindi c'è il tempo necessario per poter fare tutto si va fuori si chiacchiera si fa fotografie si prova si buttano via tante foto hai fatto anche magari delle serate all'inizio in cui andavi non c'era nulla di buono che veniva fuori ma si perché alla fine alla fine sai devi imparare tante cose le devi imparare ad esempio se fai fotografia astronomica del cielo non devi fare quando c'è la luna perché la luna è un faro che ti copre veramente tutto quello che c'è per la fotografia astronomica del cielo profondo vedremo dopo alcune foto l'ideale è proprio lavorare senza la luna perché la luna ti crea un velo sulle foto che fai che è molto forte questa è bellissima questa qua questa qua è fatta con una doppia esposizione questa si chiama luna cinerea ed è in pratica rappresenta la parte che è esposta al sole e la parte in ombra che non è completamente in ombra perché perché come vi spiegavo prima la terra riflette molto la luce del sole e quindi la luna viene illuminata di riflesso anche dalla terra e quindi questa luce azzurra che si vede è il riflesso della terra sulla luna non è il lato scuro ma the dark side of the moon non è questo esatto no è il lato dall'altra parte questa è una palcetta questo qua fa molto film di fantascienza Starfield e tutto quanto guarda che Roma bellissimo questo è vabbè questo sai cos'è io credo che certe immagini appunto poi noi andiamo a tingere quello che è il nostro bagaglio visivo appunto dedicato a film a robe no documentari che abbiamo visto e quindi è chiaro che certe immagini veramente ci fanno volar via secondo me no perché ci creiamo tutto dei film guardando alcune immagini sì 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 ma poi ti dico cioè è proprio questo che vai a ricercare no cerchi la la foto che ti dà proprio un'emozione no anche a volte cerchi di imitare magari cose che hai visto in qualche film qualche ovviamente film di fantascienza o qualcosa del genere questa è un'altra luna cinerea fatta in un'altra in un'altra occasione e sempre con la parte che diciamo esposta alla terra illuminata dalla terra io ho scoperto che amo la luna cinerea cioè mi piace è molto particolare ma questa lo puoi fare è semplicemente una doppia esposizione questa sì sì allora vediamo un po' cosa ci dice ancora ci dice una cosa che dico a volte in chat e che adoro il mondo della fotografia in tutte le sue forme ma se vuoi farlo in modo serio e professionale ci vogliono tanti soldi io faccio foto amatoriali da quando avevo 12 anni e ora ne ho 22 beato te e quello che mi ispira fotografo animali tramonti paesaggi stelle di tutto ma mi accorgo che per robe più serie servono tanti soldi che ahimè io non ho attenzione che c'è tra l'altro maria belova art ok che ci dice c'è una foto della bandiera americana sulla luna e quella russa scusa e quella russa no perché no dopo vedremo perché allora volevo rispondere a julius tutte quelle foto che vedi che hai visto fino adesso sono foto veramente fatte con un set fotografico veramente standard perché questa questa anche questa luna qua è solo una doppia esposizione in cui esponi correttamente la parte in ombra e esponi correttamente la parte illuminata del sole e poi fai la fusione delle due che se uno ha un minimo di dimestichezza con photoshop è una cosa abbastanza semplice quindi ripeto sì è bello cioè è giusto che fotografi tutto quello che ti piace e non non devi sempre correre dietro a tutto quello che uno dice ah ma se avessi no tante cose veramente te le puoi fare con veramente pochissimi soldi e è importante la preparazione che poi ci metti no per farle ecco esattamente esattamente e beh per rispondere un attimo su quanto costa un set base quello che spendi per una macchina fotografica cioè effettivamente puoi spendere non so prendere una entry level tanto una qualsiasi reflex o mirrorless ormai sono di qualità molto molto elevata un obiettivo quello che ti è comodo poi devi calcolare una cosa che non è che lo compri solo per astronomia un obiettivo fotografico lo usi tutti i giorni per tutto quello che vuoi poi magari alla sera ti prendi e vai a fare un giro anche nel prato e fotografi un po' le stelle questa foto qua non so se si riesce a vedere sì quella diagonale tu dici sono andato a ingrandirlo proprio perché mi avevi incuriosito sì quella lì è la stazione spaziale che sta passando davanti alla luna ascolta allora ma va cagare cioè la stazione spaziale che passa davanti alla luna io mi arrendo ecco a retro poi cosa sono quei puntini la stazione spaziale che passa davanti alla luna ma ce l'ho anche che passa davanti al sole basta non voglio sapere altro riguardo non voglio parlare di stazioni spaziali quindi a questo punto comunque intanto per aggiornarvi la nostra Maria di Prima che ha scritto appunto delle bandierine sulla sulla luna volevo dire che giustamente stereotype dice attenzione che è tutto un complotto l'America non c'è mai andata sulla luna per quello nelle fotografie di Andrea non ci sono delle bandiere americane perché non ci sono mai stati che abbiamo le parole in realtà in realtà è molto è molto difficile fotografare perché richiede veramente degli ingrandimenti molto molto grandi però c'è stato chi è riuscito a fotografarle con degli ingrandimenti molto molto grandi e alla fine insomma però è molto difficile devo dire questa è una luna una luna completamente ecclissata dalla dalla terra che appare rossa che appare rossa appare rossa potrei spiegarlo ma no nel senso che appare rossa perché il sole che passa attraverso la parte esterna dell'atmosfera devia e solamente i raggi rossi c'è della luce più arancio e rossa prosegue curvandosi un po' e quindi illuminando un po' la luna questa è un'altra luna minerale fatta in un'altra fase bellissima al 50% sì perché poi dopo la fine anche ti diverti dici voglio fare la luna minerale al 100% quindi luna piena al 50% e voglio la falcetta perché mi piace così anche sì perché voglio avere tutta la collezione quindi lo fai in serate diverse bellissimo però cioè veramente cioè io sai cosa è quello che a me stupisce è che nella mia totale ignoranza di questo tipo di immagini per me questa è una roba fatta non so dalla NASA non so come dirti mai avrei pensato che bastasse veramente un set base e chiaramente io vorrei aggiungere questa informazione perché non voglio non voglio mai che sia secondaria in ambito fotografico l'attrezzatura è sicuramente importante ma ricordatevi che la cosa più importante è sempre la preparazione saper sfruttare poi l'attrezzatura che uno ha quindi come posso dare il meglio di quello che ho qual è la circostanza più giusta qual è la giornata qual è l'ora dietro tutti questi scatti che vedete c'è preparazione c'è indagine c'è voglia di alzare l'asticella ogni volta per Andrea sicuramente dirà questa foto l'ho già fatta aspetta cosa posso aggiungere nella prossima immagine qual è quell'elemento che ancora non ho fatto quindi sicuramente questo secondo me è sicuramente la molla che poi ti spinge a migliorarti a perfezionarti certo se vedi qua è al 60% quindi insomma mi sono divertito un po' a fare a fare queste varie inquadrature però ripeto questa roba qua è una roba che può fare chiunque e questo cos'è questa roba qua qui invece siamo passati all'altro oggetto alla nostra stella questa è la nostra stella queste qua sono le famose macchie solari sono delle delle attività magnetiche sulla superficie del sole che creano dei punti più freddi infatti la superficie del sole è intorno ai 5500 gradi e queste zone qua si trovano intorno ai 4000 4500 gradi e quindi formano delle macchie il sole ha un'attività che varia con un periodo circa di 11 anni in cui passa da uno stato di quiete quindi di quasi totale assenza di macchie solari quindi attività solare ad un periodo di massimo solare noi adesso in questo momento siamo nella fase in cui sta aumentando l'attività solare difatti in questo periodo qua rispondo anche a una domanda in questo periodo di alta attività solare le aurore boreali sono più intense e per rispondere alla domanda sì sono andato in Norvegia ho guardato l'aurora ho visto l'aurora e no non sono riuscito a fotografarla ma non perché non è fotografabile ma perché sono rimasto totalmente colpito e ipnotizzato dalla scena che non sono riuscito a fotografare mi sono dimenticato di tutto quello che c'era intorno sono stato ipnotizzato catturato infatti devo tornarci sperando di non riuscire a cadere è un po' come il canto delle sirene proprio mi ha completamente rapito cioè io non ho capito più niente hai sofferto della sindrome di Stendhal forse quando sei davanti un dipinto importante un'opera d'arte che tu cioè sono stato veramente catturato non sono stato in grado di far altro ho fatto quattro foto anche brutte se vogliamo però per me è stata la prima esperienza è stata una cosa veramente è stata veramente mi ha stregato ecco questa qui è una foto perché la fotografia diciamo si può fare anche dal terrazzo io molte volte uso proprio il mio terrazzo per fare la fotografia senza andare in posti troppo lontani qua ci sono due telescopi uno è il mio telescopio piccolo qui stiamo alzando un po' l'asticella qua non siamo più nella fotografia diciamo con la macchina fotografica l'altro invece è un telescopio solare che mi è stato prestato da un amico proprio per fotografare alcune foto del sole che vedremo più avanti insomma senti ma per capirci uno quanto pesa sta roba due quanto costa sta roba così a occhio sei a spanne allora in realtà quella montatura che tu vedi a sinistra tubo e montatura adesso siamo sicuramente molto sotto i 1000 euro ah ma va io pensavo che fosse già 5000 euro no 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 e ti ripeto è scesa tantissimo il costo delle attrezzature astronomiche perché ne stanno producendo in quantità modelli nuovi ogni anno calcola che per molti anni c'erano pochi modelli negli ultimi anni c'è stato il boom di tutte le varie case diciamo che producono telescopi e e quindi alla fine i prezzi sono sono veramente si sono abbattuti tantissimo ormai sì no stereotype ti ti chiede no ma l'inquinamento luminoso in città non influenza le foto quindi come fai a scattarle dal terrazzo di casa tua questa roba non influenza secondo me dipende fino a dove ti spingi forse no in realtà in realtà l'osservazione è molto importante l'inquinamento luminoso viene comunemente misurato con quella che si chiama la scala Bortle la scala Bortle va da 9 a 1 dove 9 è il cielo urbano completamente inquinato a 1 in cui stiamo parlando del deserto del nulla no tipo il deserto di Atacama o cose di questo genere e naturalmente noi in città siamo intorno a Bortle 8 9 quindi è difficile vedere qualsiasi cosa come ci allontaniamo dalla città io sto a Picina siamo intorno a con Bortle 5-6 che non è sicuramente una situazione felice però attraverso attenzione abbiamo un attimo si è inceppata un attimo la linea con Andrea quindi io un attimo l'oscuro intanto approfitto per salutare il giardino di Loride che ci auguro la buonanotte buonanotte anche a te mi raccomando spero osserverai le stelle prima di andare a dormire mi sembra il minimo che tu possa fare dopo aver visto questa serata e per rispondere a Julius ma guarda te l'ha già un po' anticipato adesso Andrea in quanto ti ha detto che alla fine il mercato di questi tipi di telescopi spero si possano chiamare così essendo che c'è tanta attenzione aspetta è ritornato Andrea eccoci qua Andrea scusami ti hai rifrizzato dicevo il costo si è abbassato tantissimo ci sono più marchi che probabilmente vanno a produrre questo tipo di attrezzatore quindi essendoci più concorrenza essendoci più richiesta probabilmente riescono appunto a tenere dei prezzi più contenuti rispetto a un tempo anche le tecnologie si sono evolute e quindi facendo in maniera più industriale chiaramente i prezzi sono scesi eccoci qua come vi dicevo prima questa qui è la stazione spaziale che transita davanti al sole scusate lo devo bannare dopo questa immagine lo devo bannare anche perché il cable c'è proprio nella diagonale perfetta non è che più in alto più in basso è proprio lì vabbè qua ci sono dei software che ti aiutano sono dei software gratuiti che ti dicono ti fanno la previsione di dove passerà dove verrà proiettata l'ombra della ISS nelle varie zone allora scusa un attimo Giulio dice un attimo se brevemente puoi ripetere il discorso perché ora costa un po' meno non costano dei reni perché c'è la pubblicità e c'è Stereotype che dice ah non è Babbo Natale quello che passa le rende sopra no giusto per ripetere per per Julius no i prezzi sono scesi tantissimo perché mentre prima erano fatte c'erano poche cose e fatte quasi tutte artigianalmente adesso molte fabbriche come per esempio la Skywatcher produce proprio in serie e quindi è riuscita ad abbattere il miglioramento anche nelle tecnologie della costruzione degli specchi e delle lenti rende tutto più economico certo e quindi ovviamente alla portata di tutti questa qui è una foto della nostra stella del sole con le attività che ci sono nel sole quindi vedi che c'è quella specie che sembra che bolla tutto quanto bolle il mare e poi ci sono questi spruzzi chiamiamoli che sono materia solare che viene emessa insomma mare di fuoco mare di fuoco stupendo sì cioè ma quando realizzi queste immagini dopo che le guardi ti viene un po' un senso di goduria dici porca puttana questa veramente sai che a dire la verità quando vedo queste immagini mi spavento sempre a pensare quanto piccoli siamo quanto piccoli siamo e quanto e quanto e quanto abbiamo poca cura della nostra terra cioè questa è la nostra casa e se guardiamo qua vedi per esempio qua c'è un arco a metà di questa foto no la terra starebbe lì dentro circa un centinaio di volte per dire quanti siamo piccoli no certe volte mi guardo queste foto mi piacciono dico però che bella cioè che che bella foto ho catturato un momento importante di un'attività della della nostra stella e dopo guardo faccio faccio una riflessione dico porca miseria ma noi ci staremmo là dentro cento volte quanto è piccola la terra assolutamente sì guarda io ne approfitto solo un attimo per salutare Kyle ciao Kyle in bocca al lupo per l'esame che hai e grazie per averci fatto compagnia in questa in questa serata e ci vediamo e ci sentiamo e ci sentiamo presto per me sono veramente immagini incredibili che non lo so ti ripeto mi sembra roba da film Armageddon cosa dove mi ricordo queste immagini qua ecco vedi Julius dice ma non dici mai cavolo questa è mia uscita splendida mi faccio la pacca sulla spalla da sole sai io non sono quel tipo cioè nel senso non riesco mai a dire questa è bellissima cioè si è bella però magari volevo ancora di più per l'amore del cielo ci sono momenti in cui sono soddisfatto della foto perché sono riuscito a cogliere quello che mi interessava ma ovviamente cerco sempre di andare di andare sempre sempre di più questa qui è sempre un transito della stazione spaziale di Zaria con le macchie solari con le macchie solari giusto non ti mancava quella con le macchie solari cioè l'avevi senza stazione spaziale ma anche con stazione spaziale giustamente ecco quello che si può notare che vi faccio notare qui è che la stazione spaziale è più piccola rispetto a prima perché perché la stazione spaziale in realtà orbita a un'altezza diversa da da terra a volte sta tra i 400 km e i 600 km quindi qui era in orbita alta si chiama quindi era a 600 km e quindi proiettata risulta più piccola più piccola certo più è bassa più è grande certo senti qui c'è mi fa abbastanza ridere perché c'è stato un botte a risposta che c'è Julius che fa Demis a me sembrano le foto di Google immagini fatte dalla NASA ma attenzione perché poi Stereotypes risponde la NASA le compra da lui allora vediamo che queste foto qua sono foto veramente abbastanza facili da fare perché in realtà parlando così in generale questo tipo di fotografie è una fotografia abbastanza facile questa foto qua è una foto particolare purtroppo questa per questa ci vorranno ancora altri 26 anni per poterla rifare questa qui quel puntino quel pallino nero che vedete lì in mezzo sì oltre alle macchie solari che abbiamo già imparato a conoscerle quel puntino lì è Mercurio ah Mercurio che stava transitando davanti al sole un evento che diciamo succede ogni adesso non mi ricordo non vorrei dire cavolate però non è un evento che succede molto frequentemente ci vogliono parecchi anni per rivedere questo questo evento comunque anche Mercurio è rotondo ed è piccolino cioè voi avete Mercurio nelle vostre foto Andrea sì è così che capita cioè ecco guarda c'è Julius che dice queste facili sì vabbè anche noi plebe potremmo fare queste foto dice assolutamente sì cioè ripeto cioè qui stiamo questa qui è un teleobiettivo e questa un po' meno prima ho fatto il transito di ISS sul sole questa ISS invece incredibile è incredibile ma penso anche l'emozione forte che si ha questa questa devo dire la verità mi ha molto soddisfatto sono rimasto sorpreso anche perché ricordiamoci una cosa io ho inseguito a mano questa 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 stazione spaziale e la stazione spaziale si muove a 27.000 km all'ora beh insomma non è male cioè non è neanche un panning io c'è un c'è stereotype no aspetta un attimo mi sono perso un messaggio prima retro pai dice l'unico Mercurio che ho è nel pesce che ho nel frizz allora allora poi leggo un po' stero type io vado in aereo così sono più vicino e anche con il telefono mi vengono bene assolutamente poi a sto punto ti chiedo oh Julius non ti molla a sto punto ti chiedo quella è stata la foto più difficile sia dato tecnico che magari anche come sforzo fisico oddio fammi pensare beh dal punto di vista tecnico le fotografie più difficili sono quelle del cielo profondo che vedremo le ho lasciate in ultimo anche perché quelle chiaramente richiedono di alzare molto l'asticella per riuscire a fare le foto e come sforzo fisico diciamo che sì ti direi sempre le fotografie del profondo cielo perché sono quelle che richiedono notate all'aperto al freddo portare avanti indietro l'attrezzatura sì direi forse quelle senti e questo che potrebbe sembrare un punto nero che mi ha schiacciato Giorgia sulla schiena che cos'è questa cosa qua questa qui è sempre una macchia solare solo proprio vista con un telescopio particolare che va a cogliere proprio delle frequenze specifiche e quindi per questo motivo vediamo bene proprio i movimenti della diciamo del magma del ribollire del sole stereotype dice suggeriva che era l'occhio di saura sì ci assomiglia ecco queste qua sono sono solo non sono particolarmente interessanti però fanno vedere un po' l'attività che c'è lungo la superficie del sole quindi il sole spruzza tutta una serie di attività che buttano fuori materiale e quando viene buttato verso la terra ci sono forti d'aurore anche blackout radio ad esempio mi fa piacere che comunque tu dica questo non è molto interessante ti mostrerò quali sono le mie foto poco interessanti che faccio a differenza di questa ecco qui è un primo piano nella luce visibile quindi con un normale obiettivo di come appaiono le macchie le macchie solari quindi ci sono delle zone più fredde delle zone un po' più calde e la zona calda che è la superficie del sole naturalmente noi non riusciamo a vederlo però di solito tra le macchie ci sono degli archi di campi magnetici in cui c'è proprio un'attività del sole che appunto emette e riacquista materiale olè qui alziamo un po' l'asticella naturalmente qui un teleobiettivo non è più sufficiente ecco così rispondiamo anche a Julius che appunto ti ha chiesto come fai a realizzare degli ingrandimenti così importanti cosa si utilizza cosa allora fino a quello che abbiamo visto adesso si può utilizzare anche teleobiettivi più o meno spinti diciamo che il sole era sui 400 millimetri quindi niente di non è impossibile insomma esatto no e tra l'altro il sole puoi farlo anche con un applicatore anche se vai a f11 non hai grossi problemi perché ovviamente è molto luminoso invece qua quando vai sul planetario naturalmente un teleobiettivo non è più sufficiente qua devi andare su 900 millimetri 1000 1200 2000 2005 4000 dipende da da cosa vuoi poter fare questo qui è fatto con un due metri quindi 2000 ma ecco una cosa però ovviamente più il tele è spinto in una qualche maniera più ogni micro movimento che fai ti trovi in una zona completamente diversa ecco allora lì c'è anche un sistema probabilmente di posizionamento di questi di questa attrezzatura che ti permette di regolare cioè come si regola ci sono diciamo che l'attrezzatura è molto stabile l'attrezzatura su cui monti il il telescopio si chiama appunto montatura e ha una caratteristica perché in realtà la cosa importante è che la montatura deve seguire la volta celeste cioè deve muoversi con velocità siderale perché altrimenti più vai avanti con cioè più spingi nel zoomare e più i movimenti si amplificano quindi basta poco per riuscire a fare movimenti molto ampi e quindi l'oggetto ti scappa fuori dal fotogramma certo in realtà in realtà Giove l'ho fotografato anche con un 600 col duplicatore non questa foto qua in realtà quel puntino vedi che c'è un puntino nero non so se riesci a zoomare un po' aspetta così ecco quel puntino nero lì in mezzo è l'ombra di uno dei satelliti di Giove io io e il nome del satellite il satellite certo non avevi una mania una mania di grandezza sono il satellite che gira i nomi gli adatti Galileo a questi quattro satellite senti qui ci sono un po' un po' di domande un po' di scherzi un po' di cose allora Giorgia quando si parlava di foto poco interessanti mentre tu hai mostrato quella bellissima immagine Giorgia dice la foto alla pizza ad esempio ecco la mia foto poco interessanti forse il salamino piccante potrebbe rispondere il pianeta dopodiché attenzione stereotype ti chiede ma il sole in realtà è bianco e noi lo vediamo giallo per colpa dell'atmosfera giusto? sì esattamente il sole è bianco in realtà il nostro sole è una gigante rossa quindi in realtà nella scala della temperatura beh come fotografi sappiamo che cos'è la temperatura e la temperatura del bianco in realtà 5500 è già una temperatura che rispetto alla temperatura di tante altre stelle è quasi calda per questo vengono chiamate rosse perché dopo ci sono stelle più giovani che hanno temperature molto molto più elevate che risultano azzurre certo ecco e aggiungo scusami aggiungo ancora un'informazione Julius secondo me ormai si è invaghito di te e dice descrivi per favore una tua giornata tipo o una giornata normale di lavoro io presumo a guardare a guardare le stelle cioè io aggiungo aggiungo una domanda Andrea ma quando ti trovi davanti diciamo questo spettacolo per quanto tempo al dia della fotografia ma per quanto tempo ti soffermi a osservarle tanto tanto perché in realtà ci sono delle cose che fondamentalmente per noi umani è particolare cioè la vista stereoscopica è una cosa particolare e quando vediamo queste foto qua vediamo le foto vediamo delle cose particolari ma quando sei con gli occhi al cielo e vedi questa roba che ti circonda questa immensità che ti circonda ha un fascino che è difficile da descrivere a parole poi dopo ripeto dipende anche molto dalla sensibilità delle persone dipende dalla passione dal fatto di sentirsi parte di un intero universo di un qualcosa che non conosciamo ma neanche neanche una piccola parte e quindi sì diciamo che è difficile però sì è bello allora senti un attimo qui ci siamo davanti a un in realtà è un diagramma un diagramma molto semplificato perché naturalmente tutto quello che abbiamo visto fino adesso è alla portata veramente di tutti scatti singoli o comunque doppia esposizione in cui con Photoshop facciamo una fusione eccetera eccetera quando andiamo a fotografare il cielo profondo oggetti del cielo profondo cioè appunto queste nebulose che sono distante migliaia o centinaia di migliaia di anni luce dalla terra devi calcolare una cosa la quantità di segnale che arriva è talmente bassa che è paragonabile a quello che è il rumore di base del sensore quindi in realtà per riuscire a fare a tirar fuori il segnale da quello che noi fotografiamo intanto è necessario fare molte foto quindi più foto fai più segnale raccogli ma hai la necessità anche di eliminare tutto quello che non vuoi ad esempio il bias il bias è quello che produce la macchina cioè proprio il rumore elettrico nelle circuiterie della macchina fotografica quindi dal sensore fino alla scheda al convertitore no che quello è presente sempre anche nelle fotografie normali però è talmente basso che non viene fatto niente non è che non lo consideriamo cioè immagino che tu non l'hai mai sentito parlare di un bias cioè di eliminare il bias da una fotografia normale e che semplicemente il segnale che noi andiamo a registrare cioè il segnale di una qualsiasi nebulosa lontana è talmente debole che è paragonabile a quel rumore della macchina fotografica poi vengono fatti quelle che vengono chiamate i dark cioè delle fotografie con il tappo davanti in cui vado a scattare i difetti della macchina della fotocamera quindi tipicamente i hot pixels cioè i punti i difetti del sensore diciamo così esattamente i difetti del sensore anche qui vengono prese molte foto perché viene fatta una media statistica perché il pixel non è che sono sempre allora ci sono alcuni pixel che sono bruciati e quindi sono sempre nello stesso punto però molti pixel invece sono a volte possono accendersi a volte no e quindi facendo molti scatti tu vai a fare una media di quelle che sono i pixel difettosi poi invece fai delle foto con il che vengono chiamati i flat che praticamente illumini con una luce omogenea bianca il il sensore con la stessa messa a fuoco stesso treno ottico cioè quindi non vai a toccare niente e vai a correggere un po' quelle che sono i difetti per esempio di vignettatura o di sporcizia perché sporcizia sulla lente sulla camera e cose del genere creano un'attenuazione del segnale poi tutta questa roba qua viene messa in pasto a un software che somma sottrae moltiplica va fino a che tira fuori la foto definitiva da cui poi dopo cominci a lavorare per migliorare i colori la nitidezza diciamo segui un po' un processo simile alla post produzione nella fotografia tradizionale e in questo caso qua più foto hai più bsi più dark più flat hai migliore è il risultato finale ma scusami ti chiedo questa cosa ma una volta che tu hai realizzato queste prime immagini diciamo dark e flat diciamo così per quel modello di macchina fotografica con quell'obiettivo montato quelle vanno sempre bene o le devi rifare no devo rifare allora i flat li rifaccio ogni volta perché quando tu monti la la fotocamera ovviamente potrebbe essere in una posizione diversa potrebbe avere un po' di polvere che prima non c'era e quindi i flat li rifaccio ogni volta i dark sono mi tengo delle librerie anche perché fare non so ad esempio 50 dark da 5 minuti richiede molto tempo cioè 5 minuti per ogni scatto significa che lo devi farne devi spendere molto tempo però devono essere rifatte ogni tot perché la macchina la camera ovviamente ha un suo deterioramento e quindi cambia ok di chiaro tra l'altro uno dei vantaggi dell'utilizzo di camere dedicate è quello che sono controllate in temperatura io questi scatti qua per esempio sono fatti con una temperatura del sensore a meno 10 gradi in modo da diminuire anche quello che è il rumore di fondo il rumore termico del sensore proprio chiaro c'è un momento poetico da parte di stereotype che ci dice che lo spazio sopra di noi è stupendo perché è un qualcosa di talmente irraggiungibile per noi che ci fa venire voglia di provarci comunque a raggiungerlo ma questo è un pensiero che condivido nel senso tante volte mi sono fermato a guardare il cielo e dici è immenso quanto mi piacerebbe viaggiare vicino una nebulosa per vederla da vicino sono sogni che chissà mai se riusciremo mai a realizzarli però effettivamente è una cosa stupenda è una cosa che veramente ti rapisce molto anche questi misteri la dinamica di come funzionano tutte queste cose sono fantastiche quindi ecco che alla fine questo qui è un processo abbastanza comune esistono programmi a pagamento ma anche molto validi anche gratuiti open che permettono appunto di fare tutte queste fotografie prenderle metterle insieme e fare quello che vedi poi alla fine una foto che ha poco rumore che è corretta dal punto di vista proprio anche della duratura della sporcizia eccetera eccetera e in cui è stato sommato il segnale proveniente da tot foto ti chiedo una cosa quanto tempo sta quanto tempo dura questo processo e che tipo di computer ci vuole per elaborare questa roba qua in realtà chiaramente più il computer è potente minore il tempo di elaborazione e con un computer medio parlo un i5 con non so 16 giga di ram che è una cosa abbastanza media di solito dipende dal numero di scatti che fai siamo sulla mezz'oretta circa quanto tempo ci sta il tuo nuovo computer Andrea scusami beh no adesso ci sta poco ma mi ha mandato l'altro giorno dei dettagli del video porca puttana io ero così contento del mio m1 qua me l'ho umiliato immediatamente no vabbè calcola che comunque c'è il lavoro che sto facendo adesso in questi ultimi anni è proprio di raccogliere tantissime informazioni perché una delle fortune è che le stelle sono sempre lì cioè il prossimo anno potrò prendere altre foto per integrare il segnale perché salvo disastri saranno ancora lì nella stessa identica posizione e quindi posso ricontinuare a fotografarle per poi aggiungere il segnale alle foto che già ho però ho fatto in certe serate ho fatto anche non so 400 foto quindi integrare 400 foto ovviamente non è più mezz'ora diventa qualche ora allora io ti dico proprio di impatto queste immagini qui sono proprio veramente fuori di testa bellissime una pulizia una pulizia assurda cioè questo è proprio un upgrade importantissimo cioè qui quando sei riuscito a realizzare questo tipo di immagini qua si che hai detto cazzo che figo qua in realtà ho detto porca miseria non mi è venuto proprio quello che volevo perché c'è ancora un po' queste qua sono le play di m45 quelle che vengono chiamate anche le sette sorelle e queste qua come vedi sono stelle blu perché sono stelle giovanissime bruciano a una temperatura altissima e per questo motivo hanno questo colore azzurro no no a parte scherzi sì questa foto mi è piaciuta però sto già lavorando sto raccogliendo molto segnale per farne una che sia in cui si vedono perché ci sono tutta una serie di polveri intorno molto più deboli che sto cercando di raccogliere sono da incorniciare dice Stereotype qua sì c'è Andrea qua vi a stampare anche queste sai bisogna incorniciarle qui ti consiglio un'altra carta no adesso qui andiamo un po' qui alziamo sempre di più l'asticella e si arrivano alle foto un po' più più recenti grazie Giorgio non so che vi è se no wow dice Giorgio ecco e quindi si pian pianino qua ecco qua siamo già su qualcosa di un po' più affascinante questa qui è una parte questa qui è una nebulosa NGC 7000 che è nella costellazione del Cigno e in particolare questa parte rossa è una parte di emissione di idrogeno e viene chiamato anche il muro del Cigno perché sembra un muro nella costellazione del Cigno questo è una cosa particolare questa è una nebulosa planetaria quello che rimane dall'esplosione di una di una di una stella che esplodendo ha lasciato si sta espandendo ma chiaramente il prossimo anno la vedremo nella stessa identica maniera si sta espandendo e sta emettendo gas a vari gas di ossigeno idrogeno sono molto colpito anche dai colori che non ti aspetti perché io da profano quando osservo il cielo stellato vedo tutto nero e puntini bianchi quindi è affascinante vedere che poi ci sia comunque del colore e anche dei colori tanto diversi fra loro c'è Julius che ti pone due domande veloci una ti chiede per certi avessi già risposto all'inizio della live se appunto non ti chiedi appunto che magari ci sono altre forme di vita insomma oltre a noi e poi ti fa una di quelle domande sai che viene spesso realizzata a noi fotografi quando si utilizza un programma di sviluppo o di post produzione che sia ti chiede se ti capita probabilmente di alterare in una qualche maniera i colori o qualcosa e nel caso che tu lo faccia se è un qualcosa che magari ti dispiace perché non riesci a ridare la stessa visione di quello che hai visto a occhi nudi insomma allora rispondo velocemente alla prima domanda se non ha sentito la prima parte e quindi sinceramente il mio pensiero è matematico mi riaggancio un po' anche a quello che è stato detto da Margarita la quantità di stelle e di cose sono talmente elevate che galassie stelle eccetera eccetera che è improbabile che siamo gli unici in tutto l'universo siamo talmente distanti che non riusciremo forse mai neanche entrare in contatto per quel che riguarda la seconda domanda tutte le foto che vedi qua sono fatte al naturale cioè nel senso non sono stati ritoccati i colori nonostante in realtà in ambiente scientifico i colori proprio vengono ritoccati perché perché vengono usati dei filtri che vanno in maniera selettiva a fotografare alcune alcune parti delle degli ospettro di frequenze che vengono emessi quindi in realtà c'è una famosa un famoso modo di correggere le foto che si chiama Hubble Palette proprio perché è stato utilizzato da Hubble in cui vengono presi con camere monocromatiche in tre diverse frequenze la frequenza del Zolfo 2 Ossigeno 3 e Hα e vengono messi insieme sui tre canali RGB dando delle foto che non sono proprio colorate con i colori tradizionali ma che esaltano molto le componenti in questo caso delle nebulose quelle che state vedendo sono tutte fotografie del cielo profondo sono quasi tutte nebulose a parte una composizione in cui c'erano degli ammassi gli ammassi sono una concentrazione di stelle ammassi globulari non globulari perché sono come se fossero un piccolo globo questa è una famosa nebulosa è la M1 la Crab in italiano Crab è il Granchio che è una delle prime nebulose che è stata vista e registrata nella nostra storia dai cinesi intorno al 1050 se non ricordo male senti io ti faccio una domanda che viene riportata da Lunana 93 chi ti dice buonasera a tutti ho una domanda aspetta andiamo di metterla qui in grande ho una domanda che spero non sia una ripetizione ma quando fotografi ti segni anche le coordinate per eventualmente ritornare nella stessa posizione a distanza e vedere come è cambiato il cielo allora tutto il cielo è già mappato in realtà se tu prendi un programma come può essere Stellarium che è un programma gratuito di mappa celeste tu vedrai che questi oggetti hanno un moto costante e hanno delle coordinate che non cambiano e lascia un attimo questa foto e quindi in realtà se hai un sistema preciso di posizionamento come quasi tutte le montature hanno puoi ritornare in qualsiasi momento in qualsiasi anno nella stessa identica posizione questo sì questo qui è un ammasso un doppio ammasso si chiama il doppio ammasso del Perseo perché sta nella considerazione del Perseo e come vedete questa qui è praticamente due piccole concentrazioni di stelle che sono veramente belle da vedere e queste anche con un binocolo si riescono a vedere sono molto molto interessanti Andrea mi permetto di chiederti cioè farti un'ulteriore domanda e mi aggancio a quello che mi ha detto Giorgia Giorgia mi fa sarebbe bellissimo avere una stampa di queste fotografie in casa allora ti chiedo se c'è qualcuno che magari è interessato queste immagini possono essere eventualmente acquistabili in forma di stampa qualcosa che puoi offrire a chi magari ti vuole contattare sono tutte fatte comunque ad alta risoluzione cioè adesso qua noi le vediamo piccole ma la più piccola ha almeno 9 megapixel anche perché alcune di queste vabbè adesso non sono andato per non diciamo incasinare un po' tutto però alcune di queste sono il risultato di mosaici cioè sono più foto scattate e poi messe insieme sempre con lo stesso software che fa poi il montaggio delle foto quindi tutte quelle foto che hai visto qualche volta sono non solo una ma sono vari pezzi di mosaici ecco qui trovate il QR code di Andrea Tomicic quindi qualsiasi informazione appunto che vogliate poi avere potete contattarlo direttamente questo QR code vi rimanda direttamente al suo sito Andrea io ti chiedo anche un'altra cosa se poi è possibile aggiornate i domani quando vuoi questi software i link tutte queste cose qua potresti domani postarli anche sul nostro canale telegram è possibile fatemi qualunque domanda io vi dico tranquillamente tutto quello che c'è da sapere naturalmente è più facile se facciamo qualche uscita e vi racconto un po' perché adesso qui sto cercando di concentrare in poco più di due ore quasi 15 anni di esperienza però ripeto ci sono tantissime cose che si possono fare non ho parlato per esempio ci sono dei dei piccoli astroinseguitori che permettono di andare oltre il tempo del 600 della regola dei 600 del 500 e avere esposizioni anche da minuti senza avere le stelle strisciate con dei costi che si aggirano adesso si trovano tantissimi anche usati a costi di 200-300 euro per dire quindi già con un minimo investimento riesce a fare delle foto anche con esposizioni molto più lunghe questo è il tripleto del leone tre galassie come la nostra una di taglio una di sbiego una abbastanza così questo per dire che queste qua sono galassie come la nostra intendo come come composizione quindi miliardi di stelle al suo interno e chissà quanti miliardi di pianeti anche e qui quanto lontano siamo dalla terra qua la stella più vicina è a 25 anni luce dalla 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 terra e 25 anni luce significa viaggiare alla velocità della luce per 25 anni anche super memoria di vecchiaia prima di arrivare esatto quindi quella è la stella più vicina questa è la famosa m16 la nebulosa dell'aquila eagle nebula e questa qua ho evidenziato perché in realtà l'uno a uno è quello che vedi nel riquadro ingrandito questi qua sono i famosi pilastri della creazione che è stata una delle prime foto che ha fatto lo Hubble Space Telescope proprio si era concentrato su su questa su questa nebulosa e ha fotografato queste tre colonne che sono state ribattezzate come le colonne della creazione però questa qui è una foto fatta da Trieste poco fuori verso Morupino con un telescopio ancora diciamo molto modesto quindi diciamo con quell'attrezzatura che ti ho detto che sta sotto i 1000 euro ecco sai questa cosa a me effettivamente mi affascina abbastanza il fatto che siano fatte da Trieste non so come dirti nel mio immaginario si possono fare solo attraverso una base americana o qualcosa di simile che queste cose possano essere visibili anche da noi è incredibile ma questo mi dà anche l'idea proprio di quanto siamo piccoli di per sé quanto grande è lo spazio che in realtà può essere visto diciamo se ovviamente nella direzione giusta da qualsiasi parte del mondo quindi non assolutamente sì no comunque sì ci sono ripeto come ti dicevo ci sono tanti tante persone interessate io ho un gruppo di amici ci sono almeno due tre associazioni di attività astronomiche io ti dico preferisco preferisco gli amici nel senso che di solito li scelgo certo e quindi ci annusiamo e poi anche perché per me deve essere un momento di relax cioè la fotografia deve essere un momento di relax deve essere un momento di divertimento di piacere non non qualcosa che viene fatto perché si deve o cos'è del genere questa è una una foto che ho fatto più recentemente è sempre il muro del cigno però chiaramente qui c'è molta più integrazione di segnale e si vede anche proprio le polveri che vengono raccolte che sono tutte in giro a questa nebulosa insomma con zone più buie super super affascinante no perché sai sembrano a sua volta anche dei disegni no cioè c'è tanta c'è tanta roba secondo me per cui queste immagini risultano belle pensa ma lo ripeto stessa Giorgia no che ha dato anche una bellezza al di là della valenza scientifica al di là del sogno spaziale no ma anche una valenza di arredamento c'è un'estetica che da guardare e riguardare quotidianamente questo secondo me è bello eh sì e ti confesso che tante volte guardo le foto cioè io le amo riguardare le foto e non mi stufo mai di vederle cioè anche adesso che le stai mettendo così una dietro l'altra io le guardo ma rimango sempre affascinato da tutto quello che c'è dietro la foto o comunque quello che la foto rappresenta e anche la bellezza effimera della foto cioè proprio quello che vedo in quel momento questi colori queste tonalità queste sfumature eh sono particolari sì assolutamente guarda fammi fare solo uno shout out veloce a birra che è apparso come un messia all'interno all'interno della chat eccoci qua se volete andare a vedere del retro gaming riverente potete andare sicuramente è il nostro birra media vabbè dai questo è un altro saturno purtroppo per i pianeti non sono molto attrezzato servono servono telescopi un po' più potenti di quelli che ho con focali almeno almeno di due metri o più mamma mia è un mondo incredibile ma guarda che bello guarda la bellezza qua è la fished nebula la nebulosa la testa di pesce perché in effetti qua c'è una azzeccata è vero assomiglia assomiglia un sacco assomiglia un pesciolino dai un pesce rosso un pesce rosso sì un pesce rosso sì quindi anche questa è una è abbastanza azzeccata che fa parte è la punta di una grandissima nebulosa che è la nebulosa del cuore perché è fatta a forma di cuore queste sono abbastanza famose questa qui è la famosa testa di cavallo è sempre è sempre nella costellazione di di orione e quella stella che brilla tantissimo lì è una delle tre stelle della cintura di orione la stella più a sinistra alnitar senti c'è Julius si Julius che prima chiedeva per quanto riguarda cometti oggetti simili quali hai scattato e quali ti mancano e allora tipo in stile albin figurine aggiunge come allora le comete purtroppo non tutte sono visibili nel senso che alcune sono molto deboli e richiedono hanno poca luce e quindi sono difficili a fotografare e naturalmente mi dispiace di non essere stato attrezzato nell'83 quando è passata la Halley perché in realtà ho fatto una foto a pellicola ancora all'epoca però non era particolarmente cioè la foto non era particolarmente interessante e quindi in realtà quando posso se ci sono eventi particolarmente interessanti cerco di segnarmeli ad esempio sappiatelo il prossimo settembre settembre 2024 c'è una cometa che sta arrivando e sarà molto visibile forse più visibile di quella che vi ho fatto vedere prima quindi fate un po' di allenamento e con una qualsiasi macchina fotografica la fotograferete allora qui intanto creano anche delle suggestioni c'è Giorgia che dice che quella macchia nera a sinistra sembra una persona e c'è Julius che dice invece che a lui sembra che invece ci sia un albero rosso su un burrone quindi qui dopo si va nell'astrattismo e ognuno ci vede quella sopra è la flame nebula quella che sembrava l'albero questa mi piace da impazzire queste immagini qua questa è una delle ultime che ho fatto manca ancora un po' di integrazione però questa è sempre la nebulosa di Orione fatta in maniera più fedele a quello che è poi lo scatto e quindi vedi tutta la polvere intorno molto delicata con la parte interna che invece ha ancora un'attività di emissione nella calfa nell'idrogeno con il suo colore rossiccio bellissimo questa è diciamo che ormai sono a questi livelli insomma c'è un c'è un percorso di crescita come avete visto anche tra le prime e le ultime c'è comunque un po' di un po' di differenza perché chiaramente non sono un maestro mi piace sto migliorando e chiaramente punto sempre ad avere sempre una qualità migliore emozioni sempre più 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 grandi in questo tipo di fotografia guarda che qui c'è il 1,93 che fa un super complimento che fa mamma mia ma neanche nei cinematic marvel riproducono questa bellezza fa complimenti e questa non è né intelligenza artificiale né fatta disegno questa è la realtà questo è il nostro il nostro universo quindi proprio com'è questa è una è sempre una nebulosa planetaria questa è la eschimo sempre il risultato dell'esplosione di una stella che ha creato un allone intorno e questa è la caramella e sempre anche questa è un'altra una planetaria nebulosa planetaria quasi sempre quando stelle molto massicce arrivano alla fine della propria vita collassano e poi esplodono in quelle che sono le supernove e poi emettono gas tutto intorno questa è la fa parte di un'altra è una sotto nebulosa di una nebulosa più grande questa è la bat nebula perché in realtà se la avvolti sotto sopra sembra un pipistrello ah ok si è vero se giri la testa sembra un pipistrello fa parte della veil nebula della nebulosa velo che sono anche questa è la è quello che rimane dell'esplosione di una di una stella sono queste tutte queste informazioni no tu le ritrovi in rete ci sono delle riviste specializzate com'è che funziona cioè esistono delle riviste specializzate in edicola se uno volesse si esistono riviste specializzate però devo dire la verità in campo in campo scientifico trovi tantissime riviste anche gratuite di diffusione della cultura oltre ad avere cioè quando cominci a iscriverti a qualche a qualche canale di scientifico dove si parla di questa roba qua le informazioni circolano in tempo reale quindi ad esempio a fine maggio c'è stata l'esplosione di una supernova all'interno della della galassia m101 e lì nel giro di qualche ora si avevano tutte le informazioni e sono riuscito anch'io a catturare questa questa esplosione e quindi ho in questa galassia questa questa supernova che confrontandola con una foto fatta un anno fa effettivamente si vede la differenza di quando c'era e quando non c'era allora guardi io ci tengo molto a questo messaggio che ha mandato Valentina che riprende anche quello che aveva detto prima in precedenza un po' Giorgia allora dice molto suggestive fascinose anche per chi come me è poco conoscitrice dell'universo che ci avvolge davvero complimenti Andrea anche per la semplicità coinvolgente con cui ci racconti le tue immagini ecco questa cosa qua quest'ultima frase secondo me è fondamentale perché Andrea si è dimostrato in queste due occasioni che abbiamo avuto il piacere di ospitarlo un ottimo oratore e come dicevo prima la semplicità con cui spiega alcuni concetti alcune tecniche dimostra la sua profonda conoscenza dell'argomento trattato perché badate badate non sempre tutte le persone sanno esattamente di quello che parlano spesso li vedi che si nascondono dietro terminologie incomprensibili ai più diciamo così ma secondo me neanche loro sanno esattamente cosa stanno dicendo Andrea sta rispondendo a qualsiasi tipo di domanda che è stata fatta questa sera ma lo ricordo anche nella sarata dedicata alla fotografia infrarossi io per primo che mi reputo insomma diciamo un buon oratore rimango affascinato nell'ascoltare Andrea e questa è una cosa che a me fa molto piacere perché sono certo che non solo abbiamo scoperto un nuovo amico di percorsi creativi abbiamo scoperto un ottimo fotografo ma abbiamo scoperto anche un ottimo oratore queste sono tre cose secondo me rare che non capita spesso di trovare già una di queste tre poi tutte e tre assieme abbiamo fatto bingo secondo me quindi insomma sono veramente tanto felice di averti qui Andrea salutiamo anche la mamma di Sabri che è arrivata ciao ciao Patti ben arrivata attenzione che Lunana93 ci dice ma a quando questo workshop a quando questo workshop allora io Lunana ti dico subito che attenzione che se sei di Trieste o sei vicino a Trieste ecco qua volete realizzare delle fotografie astronomiche assieme ad Andrea Tomicic scrivetemi al Demis fotostudio più c'erino gmail.com prendiamo un po' adesioni e vediamo cosa riusciamo a combinare verso fine luglio verso fine luglio vediamo cosa cosa accade premettiamo una cosa c'è questo evento qua un evento assolutamente in amicizia dove chi a voglia viene io posso essere disponibile per spiegare un po' le tecniche base cercare di aiutare qualche trucchetto per per cominciare a fare qualcosa di interessante dopo se se qualcuno vorrà fare qualcosa di più approfondito dopo quello vediamo se c'è qualcuno interessato o cose del genere volevo solo rispondere a una domanda che è stata fatta da mi pare perché ho visto che era interessante era una domanda ah sì da stereotypes che diceva ma quando una stella diventa un buco nero in pratica impossibile vederla immagino allora intanto una stella per diventare un buco nero deve essere una stella super massiccia enorme cioè almeno almeno da quello che sono gli ultimi studi almeno 5-6 volte la massa solare per riuscire ad avere la probabilità di diventare un buco nero quando collassa ed è vero sì nel senso che non abbiamo mai fotografato fino a poco fa un buco nero alcuni anni fa un team che poi è stato guidato dall'osservatorio Einstein di Monaco però è una collaborazione internazionale hanno fotografato il buco nero che c'è all'interno di M87 la galassia nella Vergine nella costellazione della Vergine ed è stata la prima fotografia realizzata con proprio di un buco nero cioè del fatto che è nero non si vede allora senti intanto c'è Enzo che ti dice appunto fantastica serata grazie Andrea per la chiarezza e la semplicità con le quali ci hai intrattenuto grazie a Demis per aver organizzato questa serata così speciale grazie grazie di cuore Enzo Giorgia dice oltre a questo la sua infinita disponibilità nel condividere le cose con gli altri che non è scontata bravissima anche qua è un argomento che ricordo io ne parlai proprio con Andrea qui in studio che ci sono alcuni che vivono di segreti di stato ma di cose anche molto molto semplici semplicemente ma dove hai fatto questa foto non posso dire che è un segreto quindi fortunatamente Andrea non appartiene a questo tipo di persone qua e secondo me questo ne denota secondo me anche lo spessore intanto Enzo ci dice che ha già inviato l'email e attenzione che abbiamo Sushi di Leone che ci fa ciao bel barbozzo sto l'urcheggiando l'urcheggia quanto vuoi siamo felici che tu lo faccia Sushi di Leone allora questo vediamo che fa parte della classica attrezzatura da zaino fotografico diciamo penso che Julius ce l'abbia questa cosa diciamo che ecco questo è un po' per rappresentare il fatto che sì è vero è tutto bello però chiaramente il cielo più bello è quello dell'inverno perché è più buio per più tempo adesso in questo preciso momento la notte astronomica dura tre ore e quindi c'è anche poco da fotografare anche se ci sono ci sarebbero delle cose molto interessanti quindi le notti invernali si passa fuori i tubi ogni tanto si trovano in queste situazioni come vedi è tutto ghiacciato qui eravamo a meno 7 meno 8 e quindi sì questi sono i risultati gioie e dolori esatto infatti anche qua nella mia borsa fotografica ho dovuto mettere i guanti perché una volta sono rimasto attaccato con le mani porca mare perché ovviamente non ci ho pensato e quindi alla fine anche quello è il rischio ma voglio il motorino che muove il tutto quella su destra questa rossa in basso a destra è la camera astronomica questa qui è una fotocamera il motorino che muove il fuoco invece è quell'altro oggetto rosso attaccato trasversalmente perpendicolarmente alla camera che mi regola il fuoco e lo regolo da remoto diciamo che adesso in questo preciso momento io ho il mio telescopio che è completamente remotizzato cioè in realtà visto proprio per non avere questo tipo di problematiche stare fuori al freddo io monto il tutto faccio alcune procedure di allineamento all'inizio poi dopodiché mi siedo in macchina col mio tablet e controllo completamente da remoto tutta la strumentazione come vedi qua è stata dura strati di ghiaccio io intanto diamo la buonanotte a Luca Luca grazie per averci grazie per averci seguito in bocca in lupo per la mostra fotografica che so che c'è in questi giorni qua io proseguo adesso vi leggo un po' ecco questa qui è proprio M101 è fatta peccato che non ti ho mandato la foto nuova però in una delle spirali questa qui è una galassia spirale come la Via Lattea in pratica è una gemella e nella parte del ramo che sta a sinistra lì c'è un faro adesso si è accesa una lampadina in pratica e quella è una supernova che è in corso adesso si sta pian pianino affievolendo ma sono riuscito a fotografarla anche al massimo della sua luminosità allora ringraziamo appunto e salutiamo Luca complimenti ad Andrea per le bellissime foto e ad Emis per la conduzione ottimale della serata grazie Luca sei un amico Giulius vediamo che ci dice Giulius va beh amici creativi io vado starei qua ore ma domani devo svegliarmi presto notte a tutti e buone chiacchiere ciao Giulius grazie sono disponibile come dicevi tu se qualcuno ha qualche domanda qualche curiosità anche sul canale tuo se qualcuno vuole chiedere ancora qualcosa perché in realtà ci sarebbero tantissime cose da dire io adesso ho veramente concentrato tantissime cose parlando solamente delle cose più salienti di come funzionano le cose e del fatto che si può veramente fare un percorso molto graduale partendo con quello che abbiamo in borsa per poi dopo se uno si appassiona arrivare veramente a non avere i soldi per la droga ecco allora l'unano 93 dice ma in situazioni come questa dove la temperatura è molto bassa le batterie quanto dura rispetto a una temperatura normale? allora in realtà io uso batterie d'auto perché tutto quanto è alimentato a 12 volt anche la camera non ha una batteria come la macchina fotografica naturalmente è verissimo se scatti con la macchina fotografica le batterie durano mediamente almeno un 20-30% in meno se sei sotto i 0 gradi e per questo motivo bisogna sempre portarsi dietro più di qualche batteria tenerle non nella borsa ma possibilmente in tasca a contatto col corpo ma questo è un trucco diciamo abbastanza ovvio per qualunque tipo di fotografia quando si scatta a basse temperature e poi dopo non è che si scarica completamente se la riscaldi poi dopo ti torna un po' di corrente però ovviamente devi pensare e considerare anche questo e sì uso batterie d'auto esterne ovviamente ne ho più di una perché a seconda delle serate se stai fuori anche 7-8-9 ore chiaramente anche se non consuma tantissimo il tutto però chiaramente devi devi stare là sei via da casa non puoi non hai una presa di corrente esatto noi salutiamo scusa un attimo salutiamo anche Scam grazie per il fantastico viaggio stellare buonanotte il primo turno in ospedale in combi quindi Scam grazie anche a te per averci seguito fino ad adesso questa è la famosa galassia di Andromeda è distante due milioni e mezzo di anni luce ma si sta avvicinando con noi alla nostra galassia e fra due miliardi e mezzo di anni colliderà con la nostra galassia non sarà un problema nostro non ci saremo forse forse non saremo in live penso ad ad assistere in diretta cosa cosa verrà questa M33 è la triangulum la triangolo un'altra galassia queste qua sono galassie come la nostra via lattea quindi immagina quanta probabilità che ci siano altre forme di vita in altre galassie in altri punti dell'universo e poi abbiamo questa che è l'ultima immagine sì questa è la bat nebula però in un formato un po' più grande infatti qua si vede una parte anche della della coda diciamo no sai che a me sembra il profilo di una persona beh ognuno poi dopo si trova quello che vuole sì allora qua abbiamo stereotype che dice ma io so che per trovare nuovi pianeti si usa la stessa tecnica che hai usato tu per fotografare la ISS davanti al sole o con mercurio non si potrebbe fare lo stesso per scoprire i buchi neri scusate i buchi neri mi affascinano in realtà lo fanno si si chiama la tecnica del transito cioè in pratica viene misurata l'intensità luminosa della stella e poi a un certo punto si vede che la luminosità diminuisce per un periodo e poi ritorna di nuovo su e misurando anche il percorso cioè il periodo tra le due tra i due abbassamenti riescono a capire con che periodo di rotazione il pianeta gira intorno al suo sole o se ce ne sono più di uno perché a seconda anche del tipo di attenuazione può essere un pianeta più vicino del proprio sole o un po' più lontano quindi più piccolo rispetto alla proiezione e la stessa cosa si viene fatta anche per i buchi neri anche se per i buchi neri si usano delle tecniche un po' diverse si lavora nei raggi gamma e negli raggi X cioè ci sono dei levatori diversi ok allora mio caro Andrea per quanto tempo ti abbiamo sequestrato questa volta per due ore e ventitré minuti allora è stato un viaggio bellissimo è volata diciamo è volata ma poi è veramente secondo me non posso io separare l'idea di queste immagini dall'idea di sogno è impossibile è veramente impossibile io rimango ammirato delle fotografie che hai realizzato ma come ho sottolineato prima rimango ammirato dalla tua capacità di saper spiegare cose tanto complessi in maniera tanto semplice ci hai fatto vivere queste esperienze in questi due ore ci hai anche dato come si può dire un po' la speranza di poter realizzare alcune delle immagini che abbiamo visto durante la prima metà ma le farete sicuramente le farete sicuramente quindi insomma guarda c'è Enzo che dice ma già finito? è già finito? cioè ragazzi è bellissimo questa cosa qua allora senti Andrea io ti ringrazio di cuore io rimetto il tuo QR code mi raccomando scansionato il QR code il sito di Andrea così potete rimanere in contatto con lui ma se avete piacere domani chiederemo ad Andrea quando avrà tempo voglia eccetera sul nostro canale telegram di percorsi creativi lo troverete perché fa parte del canale quindi se avrete domande volete postare qualche vostra immagine o delle immagini magari che avete trovato in rete magari siete curiosi magari di sapere come può essere stata realizzata quel tipo di immagine sono certo che Andrea insomma in una maniera o nell'altra cercherà di soddisfare anche la vostra curiosità sì sì assolutamente allora Andrea io ti ringrazio di cuore per essere stato con noi spero che tu sia stato bene assolutamente anche in questa occasione quindi qui vediamo le adesioni sicuramente a Enzo c'è perché mi ha mandato l'email quindi andremo a fare due chiacchiere due foto con Andrea a fine luglio penso che sarà una bella occasione per conoscerci un po' di più bere due birre insomma ma questa poi come ti dicevo Demis questo è lo spirito cioè nel senso che effettivamente la fotografia astronomica è sempre stata per me veramente un momento di relax e di incontro con persone che ti danno qualcosa perché mi piace condividere questi momenti proprio con con le persone con cui stai bene con cui ti diverti con cui fai quattro risate la vita è corta se guardiamo se guardiamo proprio la mettiamo in confronto con gli eventi dell'universo cioè siamo un'inezia quindi cerchiamo di godercela no? come si dice hai ragione assolutamente la penso proprio come te allora ragazzi io vi invito a rimanere ancora un attimo intanto salutiamo Andrea Andrea grazie di cuore dopo ti leggi buonanotte a tutti tutti i complimenti che possono arrivare domani domani sarà caricata su YouTube la serata la serata fatta quindi mi raccomando domani quando comunicano su Telegram che la diretta c'è è caricata su YouTube mi raccomando lasciateci traccia anche lì un saluto un like che è importante facciamoci conoscere Andrea ti saluto grazie di cuore grazie grazie a voi buonanotte a tutti e a risentirci a presto dai ciao Andrea ciao 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 cioè volevo dire una roba tipo buone stelle ma mi sembrava una cagata talmente grande che ho evitato di dirla però l'ho detta adesso allora ragazzi mi raccomando rimanete ancora un attimo qui live perché vi devo dire due robe innanzitutto grazie per essere stati con noi questa sera grazie per i vostri interventi le vostre domande questo è lo spirito di Twitch questo è lo spirito di queste serate l'interazione è qualcosa di fondamentale quindi canale Telegram se ancora non l'avete fatto andate a scansionarlo subito così rimanete in contatto con tutte le nostre live e con il nostro Andrea chiaramente altra cosa novità incredibile non so perché ma l'abbiamo fatta siamo anche su Kik quindi se qualcuno non abbiamo fatto nessuna live su Kik però se nel frattempo avete piacere di supportarci anche su quest'altro social magari faremo una live dedicata su Kik quindi mi raccomando scansionato anche qui il QR code ci troverete lì magari faremo lì ad esempio su Kik c'è una sezione fotografia proprio delicata quindi secondo me può essere qualcosa di interessante lo lascio ancora un attimo altra cosa l'intrattenimento questa era l'ultima serata dedicata alle interviste creative durante quest'estate ovviamente io incomincerò a lavorare tra qualche giorno proprio per creare la nuova la nuova tranche che partirà da settembre poi per interviste creative se avete dei nomi da suggerirci di fotografi interessanti talentuosi che hanno qualcosa da dire un punto di vista innovativo fatecelo sapere e fatemelo sapere anche su Telegram questo vuole essere uno spazio piccolo nel nostro come si può dire un contenitore piccolino però curato dove cerchiamo di volta in volta di scoprire storie immagini che possono essere interessanti che possano farvi sognare il mondo è complesso è complicato e io reputo che la creatività sia quella molla che ci aiuta un po' a vivere meglio sempre quindi che passi per il videogame passi per la fotografia passi per le illustrazioni passi per un libro per un film o quello che volete voi insomma ci aiuta sicuramente a vivere a vivere meglio quindi tutto l'intrattenimento che ci sarà su Twitch a meno che di eccezioni particolari sarà molto leggero lo farò da solo ma lo farò anche in compagnia di Giorgia che avrete letto ogni tanto durante durante questa durante questa live ci saranno le noti horror ci saranno la ricerca di videogame un po' più creativi ho portato Observer che so che è piaciuto ho portato il gioco uscito su Twitch dedicato a un gioco molto narrativo dedicato all'investigazione molto fuori di testa ma ad un'estetica incredibilmente bella continueranno i nostri voli all'interno di Flight Simulator insomma sono momenti belli di esplorazione del nostro mondo interessanti per capire anche come funziona insomma un po' anche come funzionano gli aerei insomma c'è una tutta una serie di persone che mi seguono perché mi vogliono bene non voglio che io mi schianti in giro ora andremo a fare un ride quindi vi invito a rimanere ancora un attimo con noi vediamo cosa ci dice Giorgia complimenti Andrea per le tue fotografie per le spiegazioni sempre semplici esastive per noi comuni mortali ma soprattutto per il tuo potere di condivisione della tua vita persona speciale grazie ancora poi non so cosa stanno dicendo qui buona nebulosa ci dice stereotype io vado vi metto tutti quanti non scrivete parolaccia perché vi evidenzio tutti ma quello lì dietro il capo di Art Attack esattamente è lì è lì che ci segue non si perde neanche una live paga un affitto per rimanere qui ad assistere il tutto l'abbiamo fatta l'hai fatta tu non so cosa si riferisce Giorgia ma sicuramente qualche live fatta assieme lo farà anche Giorgia sola perché abbiamo un patto esatto Giorgia comparirà anche da sola senza di me a fare delle live e sono certo che avrete ancora più piacere di seguire la roba Staffo farà distruttore all'interno di Flight Simulator allora andiamo a vedere chi andiamo a raidare ragazzi se avete dei consigli scrivetemelo qui io vado un attimo in cerca di questa roba qua vi ricordo vi ricordo che su Telegram trovate un po' di tutto quello che riguarda le nostre live aspetta adesso cercando da che andare andiamo 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 a trovare vediamo chi allora perché è importante portare le persone vediamo ok vi porto ah non vi dico dove vi porto così dovete rimanere per forza di cose allora vediamo un po' esegui raid visto che da un po' che non lo raido aspettate andiamo ok vi porto nella pazzo pazzo follia direi vi porto nella pazzo follia via raid salutatemelo tanto scoprirete for un po' chi è hashtag percorsi creativi grazie a tutti ragazzi vi voglio bene alla prossima mi raccomando sempre su percorsi creativi ciao 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 ciao